Allora, buonasera a tutte e a tutti. Un particolare saluto al presidente Nassimiliano Marotta, alla professoressa Tiziana Providera che ci stanno seguendo da casa. Sono veramente contento di avere con noi non solo un amico dell'istituto, ma un grande avuto studioso con Gaetano Lettieri, che è un professore ordinario di storia del cristianesimo e delle chiese, mi sembra che questa sia l'esatta dizione, alla Sapienza Università di Roma e direttore anche del Dipartimento di Storia, Antropologia, Religion, Arte e Spettacolo. Ecco, non mi entra nella testa, mi dispiace. Siamo al terzo giorno del Laboratorio Leopardiano dedicato a tre concetti, lo dico per chi non era con noi in questi giorni, tre concetti fondamentali, bellezza, verità e virtù, che nei due laboratori che teniamo, questo di gennaio e quello di febbraio, saranno declinati secondo due assi differenti. Un asse cronologico, antico, moderno, che in realtà non è soltanto cronologico ma anche valoriale per molti aspetti, e un asse invece concettuale, cioè secondo la polarità relativo assoluto. Ovviamente poi i relatori interpretano nel modo che pare loro più opportuno queste indicazioni che noi abbiamo dato. Allora il professor Lettieri oggi, come ho sentito dalle anticipazioni, ci parlerà in particolar modo della ginestra e del rapporto con il cristianesimo e il pensiero e la poesia Giacomo Leopardi. Allora, grazie di nuovo Gaetano, a te la parola. Sono io a dovervi ringraziare, ringrazio innanzitutto il presidente Massimiliano Marotta, Tiziana Provvidera, per me è un onore essere qui all'istituto e parlare in questo termine calibrato, vera e propria tribuna da un punto di vista culturale italiano e anche un atto di profonda responsabilità civile, non bisogna dimenticarlo. Sono d'accordo sul fatto che confrontarsi con grande tradizioni e grandi autori significa anche avere una responsabilità ben precisa da un punto di vista culturale, lo ripeto da un punto di vista civile e l'istituto è un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale in proposito. Ancora riprendendo quello che era l'intervento del saluto di Massimiliano Marotta, sintetizzerei, introducendo un attimino questa mia relazione, un termine che può sembrare anomalo in riferimento a Leopardi, è il problema del bene. Cioè, in fin dei conti, la ginestra come punto di approdo e ultima straordinaria composizione poetica di Giacomo Leopardi, a mio avviso non riesce ad essere messa a fuoco in tutta la sua complessità, la sua radicalità, se non ci rendiamo conto che intercetta proprio quelle parole d'ordine che voi avete indicato, che sono la questione della bellezza, la questione della verità e la questione della virtù. Il problema è la possibilità di testimoniare il bene, che non è cosa da poco, soprattutto in una prospettiva troppo facilmente nichilistica, irriduttiva da questo punto di vista, che è stata portata avanti nell'interpretazione leopardiana. Allora, il problema è piuttosto comprendere quale sia la relazione tra il nichilismo leopardiano e una possibilità di testimonianza del bene. Detto per formule, il problema è anche porci una dimensione di Leopardi moralista, e Leopardi è sempre stato un pensatore e un poeta moralista. Pensate, ora non diamo ovviamente un'accezione negativa al termine moralista, potremmo dire morale, ma insomma per intenderci e qui capto anche qualche titolo della recente bibliografia, il discorso sin dalle operette morali. La fondazione di una morale è una questione assolutamente decisiva che investe, ne parlerò alla fine di questa mia chiacchierata, anche un'altra opera fondamentale per giudicare la recente della leopardiana, che sono i pensieri. Cioè, in fondo, l'opera postuma, che doveva anche nella costruzione o nell'architettura progettata a Leopardi essere accanto appunto dell'operette morali, o ben dita ai canti, un pilastro assolutamente decisivo. È evidente che l'interpretazione che vi propongo sarà molto secco, molto sintetico, i materiali sono tanti ed è difficile e pesante doverli poi riferire oralmente, però il problema del rapporto con il cristianesimo è un problema assolutamente decisivo, proprio in quanto il cristianesimo è non solo la religione dominante culturalmente, ma direi anche poi dal punto di vista della fede e della pietà religiosa. Quindi c'è un portato religioso e c'è un portato culturale, ma proprio perché il cristianesimo è quel tipo di razionalità che ha cercato di incrociare il problema del nulla con il problema del bene. In fin dei conti questo è ciò che del cristianesimo profondamente interessa a Leopardi. E anche in impostazione, non ho scelto io il primo titolo della conferenza, cioè pensare il cristianesimo alla fine dell'antichità e alla fine della modernità, cioè connettere il pensiero del cristianesimo, i Leopardi, al pensiero della fine, mi sembra una indicazione preziosa e quindi io qui organizzo, ringrazio insieme con la semigliano Ubi, scusa anche gli altri due organizzatori, Fabiana Cacciapoti e Alberto Folin, che sono leopardisti molto più raffinati di me per avermi invitato e per ascoltarmi qui oggi. Allora, subito il titolo che io vi propongo, il titolo è di ateofania. Io penso che la ginestrasia è una ateofania. Ambiguamente al tempo stesso pone un bilancio negativo della tradizione teologica cristiana e direi metafisica occidentale in una prospettiva che per me è una prospettivatea. Io non vedo spazi, no, per poter, malgrado la riflessione di Leopardi sulla possibilità, la possibilità infinita, è una specie di fideismo iperbolico leopardiano. Sarebbe interessante ragionare, però non ci sono troppi materiali, sappiamo quella che la centralità ideale di Bale all'interno del pensiero leopardiano. Ricordate quelle poche ma folgoranti definizioni, il fin dei conti che cosa insegna? Insegna a distruggere la filosofia, no? Ricordo che Bale è stato un pensatore che è oscillato tra il nichelismo e l'ateismo e il fideismo. Quindi non sarebbe un percorso improbabile o del tutto azzardato, ma ciò nonostante io non lo ritengo davvero un percorso liberativo. Quindi presuppongo una prospettiva atea, ma al tempo stesso una struttura teologica fortissima che governa la ginestra. In questo senso la ginestra non è interpretabile se non a partire dalla chiave interpretativa che Leopardi stesso ci ha fornito, che è la citazione del Vangelo di Giovanni in epigrafe del canto. Ricordate, gli uomini volero piuttosto le tenebre che la luce. È una citazione al discorso di Nicodemo, no? Il terzo capito del Vangelo di Giovanni, che a mio avviso è il filo che ci consente di riconnettere degli elementi in qualche modo nascosti, sommersi o affioranti e non riconosciuti, sottolineerei anche questo aspetto, che in realtà strutturano in maniera per me molto coerente la ginestra. Io non penso affatto, lo ripeterò, riprenderò questa indicazione alla fine di questa mia breve presentazione, non penso affatto che l'accezione, cioè il significato della citazione giovanea all'inizio del canto sia soltanto sarcastico o nella prospettiva del rovesciamento, come a dire che la vela luce è la liberazione dal discorso teologico. Il rapporto con questa dialettica tra luce e tenebre è un rapporto molto più complesso, a mio avviso, ed è un rapporto che è governato dalla relazione di Leopardi con Gesù Cristo. Cioè, a mio avviso, il cuore della ginestra è la prospettiva di una cristologia atea. Ecco perché ho cercato nel termine di ateofania di conservare la dimensione comunque di rivelazione sul divino che anche la prodo ateo non può non contenere, non può non mediare. Qui ho cito, ho poco tempo e quindi corro, una scoperta vera e propria, penso, che mi ha proprio recentemente, almeno per me, mi ha sorpreso nel mio sforzo di interpretare la ginestra. Ha un nome, ha una storia, un volto, ha un corpo di opere imponente. Questo nome è Daniello Bartoli, è un gesuita che accompagna quasi tutto il XVII secolo, uno scrittore torrenziale. Ricordo che sia nello Zibaldone che in altri scritti, una letta, una cristomaziale, Leopardi lo indica come prosatore insuperabile, addirittura lo definisce il Dante della prosa italiana. C'è una definizione non da poco. Perché questa attenzione per Bartoli? È in particolare per una raccolta tardosecentesca che fu nella fine degli anni Ottanta, poco prima della morte di Bartoli, pubblicata a Roma, Le Opere Morali, sottolineerei il titolo di questa raccolta, Le Opere Morali di Bartoli, che raccolgono vari testi, dalla povertà contenta alla ricreazione del sabio, ai simboli riportati alla morale, alla geografia. Sono opere di straordinaria erudizione. Per quale motivo cito questa opera? Perché penso che sia l'opera che sia alla base della ginesta. Cioè è un'opera complessiva di confutazione dello scetticismo, del materialismo, degli ateismo seicentesco, nella prospettiva di una riterpretazione platonico-cristiana sostanzialmente, fortemente nutrita sia di testi classici che di testi patristici, ma anche aggiornata da un punto di vista filosofico, una difesa della creazione come teofanica. Quindi mettere in dialettica la ginestra con le opere morali di Bartoli, noi abbiamo una lettra del 19 di Leopardi in cui Leopardi scrive a Giordani dicendo io di Bartoli ho solo le opere morali e un volume, ora non mi ricordo quell'altro volume di storia del movimento gesuita di Bartoli. Perché è interessantissima questa indicazione? Perché poi noi sappiamo che crescono e cresce la presenza delle opere di Bartoli nella biblioteca Leopardi, quindi Leopardi si documenta ulteriormente ma che già soltanto le opere morali rappresentano un testo elettivo e di riferimento costante di Leopardi. Aggiungo un'ipotesi che non è mai stata avanzata, per quello che io riesco a capire il riconoscimento dell'importanza di Bartoli nei confronti di Leopardi è praticamente nullo, si deve fare eccezione per un intelligentissimo articolo di Raimondi che identifica una connessione tra il notturno della ginestra per intenderci e alcuni passi dell'uomo di lettere, opera contenuta nelle opere morali di Leopardi e fa un paio di riferimenti anche alla ricreazione del Savio, che mi pare dia il titolo all'articolo di Raimondi, ma direi che lo scavo su colui che comunque Leopardi dichiara ripetutamente come il prosatore di riferimento e il dante della prosa italiana, non lo voglio ripetere, è praticamente nulla. Allora, vedrete che darò alcuni esempi, tutta la struttura della ginestra trova precisa corrispondenza in questi testi di Bartoli. Andiamo per i gradi. Voglio citare qui un saggio, a mio avviso prezioso, di Sofia Gentili, che è dedicato appunto alla ginestra un saggio Deserti biblici e terre desolate, Leopardi verso il Novecento, che è stato poi rivisto e ripubblicato nel Novecento scritturale. Perché è un saggio molto prezioso? Perché Sogna Gentili dimostra come i versi della ginestra dipendano da una sistematica utilizzazione di luoghi biblici, in particolare profetici, soprattutto profetici e soprattutto Isaia e Geremia, e che quindi immagini, metafore, immaginario desertico, sono radicalmente dipendenti da una riformulazione di luoghi comuni biblici. Già questo ci fa capire quanto la Bibbia sia presente all'interno della ginestra. È una indicazione, ripeto, assolutamente preziosa. Sogna Gentili sfiora il problema che anche il fiore del deserto, cioè la ginestra, richiami il fiore biblico, e cioè il giglio, ad esempio, o altri fiori biblici invece che indicano dimensione desertica, no? Di dimensione di... il ginepro, dimensione quindi di morte, di desolazione. Ma non approfondisce la questione. Io direi che quindi la prima proposta che io vi faccio è questa. Se è vero, come ripeto, Sogna Gentili ha dimostrato, che la ginestra sistematicamente reinterpreti il paesaggio desertico, il paesaggio vesuviano e la descrizione della distruzione delle civiltà che trova piena corrispondenza con la distruzione naturale, ha un'origine biblica, è evidente che dobbiamo interpretare in senso biblico anche la metafora del fiore, cioè anche la metafora della ginestra. Allora, da questo punto di vista, vedete, la antitesi tenebra-luce tende a corrispondere all'antitesi deserto-fiore e chiaramente ciò che luce, ciò che fiore, non può che essere Cristo. Il problema è quindi riconoscere alla ginestra la captazione di formule e di luoghi simbolici cristologici che in realtà ne strutturano il rapporto appunto dialettico con la descrizione del deserto che rappresenta ovviamente una metafora del nichilismo leopardiano e quindi dell'assoluta dimensione ateologica del reale. Ora è inutile moltiplicare i riferimenti sia alle prose che alle poesie di Leopardi. Questo che cosa comporta? Comporta che a mio avviso ciò che regge ideologicamente la ginestra è una logica di tipo apocalittico-messianico che non a caso è indicata nella citazione giovanea in calce al canto. E cosa intendo per dialettica apocalittico-messianica? Nella dimensione apocalittica una logica della distruzione, dell'agnentamento che non a caso ha in molti testi vetro-testamentari. Ispira, ecco, no? Ispirazione viene presa da questi testi neotestamentari leopardiani e radicalizzata nei testi apocalittici cristiani. Quindi vi è una dimensione divina della distruzione dell'agnentamento e l'esperienza del nulla è un'esperienza interna alla tradizione biblica, interna alla tradizione cristiana. Aggiungo, qui io dovrò essere, me ne scuso innanzitutto con Massimiliano che ha esplorato e ama molto quei testi, quanto l'interpretazione del cristianesimo nello zibaldone, ovviamente esteso anche agli altri studiosi qui presenti, sia una interpretazione ossessivamente catturata dal rapporto al cristianesimo fino al 21-22 e che poi si concluda tra il 22 e anche dei testi del 23 nella constatazione che il cristianesimo è stato l'elemento culturale chiave per l'affermazione, lo sdisvelamento del nichilismo. Allora, da questo punto di vista il nichilismo va reinterpretato all'interno di una dialettica apocalittica nulla pienezza, nulla luce, tenebra luce, nulla rivelazione, che è una dialettica che Leopardi ovviamente storicizza. Allora dobbiamo concentrarci sulla dimensione appunto nichilistica interna ai testi biblici, ad esempio io potrei portare molte citazioni dove il termine annichilare che torna nella ginestra e termine ridurre a nulla, nullificare, niente, affollano la notazione all'Antico Testamento di Antonio Martini che è l'edizione settecentesca della traduzione in italiano, del testo della Vulgate, della traduzione in italiano della Bibbia, che Leopardi utilizza come la Gentili stessa ha dimostrato e di cui spie di dipendenza sono presenti, testuali, sono presenti nelle metafore della ginestra. Allora, ripeto, anche da un punto di vista filologico la fitta, il fitto ricorso a termini, chiamiamoli nichilistici, ha un'origine biblica nel commento a Martini che evidentemente Leopardi tiene presente, ma poi è ideologicamente, autonomamente, la riflessione stessa di Leopardi sul cristianesimo come ciò che produce il nichilismo o ciò che determina, la tramite il monoteismo come negatore della sacralità e del senso e della pienezza della realtà mondana che determina progressivamente l'affermazione del nichilismo, una specie di, come dire, negazione che filosoficamente cresce e che finisce per divorare se stessa sostanzialmente. Aggiungo un elemento. Un punto di riferimento per me fondamentale, già in una mia riferica sull'infinito e particolare sull'ultimo verso del canto, il naufragare ben dolce in questo mare, è stata una degli scritti dei discorsi sacri di Leopardi, sono discorsi di Leopardi adolescenti del 13, in particolare un gruppo di discorsi che sono stati, non tutti discorsi sono stati pubblicati purtroppo, ma alcuni di questi è molto importanti, la fregelazione, la passione della crocifissione di Cristo, crocifissione e morte di Cristo del 1813, sono scritti molto importanti. Ho poco tempo, devo essere brutale e sintetizzare. Qual è la mia tesi? La mia tesi è che nella ginestra venga sostanzialmente riconfigurata anche a livello di immaginazione poetica, di esposizione retorica, una struttura ancora una volta apocalittica che è presente in questa opera Giovanni di Leopardi. Detto in altri termini, se il calvario di cui parla la crocifiazione e morte di Cristo è il monte della passio Cristi, potremmo dire in questa riformulare in questa maniera, il Vesuvio è il monte della passione della ginestra. Dobbiamo capire chi è la ginestra, perché chiaramente se io nego a Leopardi una prospettiva teologica o fideistica, è evidente che il ricorso alla centralità della figura di Cristo non è certo un ridicolizzarla o un recuperarla in maniera sarcastica, ma riprenderla in maniera metaforica. Allora, che cosa significa ginestra Cristo? Questo è il tema che a mio parere dobbiamo porre e in fin dei conti la risposta, io l'anticipo, la mia tesi è che il Christus Patiens, che Leopardi ha già trattato in maniera approfondita all'interno di questi scritti, questi discorsi sacri di adolescente, divenga la figura del poeta nel deserto biblico da un punto di vista dell'immagine e metafisico da un punto di vista della restituzione appunto filosofica e quindi nella nullificazione della realtà, cioè il rapporto è il rapporto dialettico tra il poeta e nulla e la funzione cristica messianica del poeta. È evidente che questo significa anche collocare Leopardi all'interno della cultura romantica sostanzialmente, è del tutto evidente, no? È questa pretesa di supplenza che la cultura romantica afferma in relazione alla tradizione religiosa. Questo vale per la Francia, penso al grande libro di Benichoux che appunto tratta proprio in prospettiva, vedete, Il tempo dei profeti, Dottrine dell'età romantica, che è un libro prezioso da questo punto di vista, e c'è questo slittamento dal religioso al letterario profetico-politico, è un discorso proprio di slittamento, di secolarizzazione, ovviamente vale per il mondo tedesco. Allora forse bisognerebbe interpretare Leopardi all'interno di questo movimento culturale più ampio e complessivo, dove Leopardi ovviamente non ha le ingenuità romantiche che vediamo altrove, in questo senso, la sua metafisica radicale, nichilistica, no? Che non ritroviamo in altri contesti culturali. Quindi aggiungo un, diciamo, ricorro a una formula, il problema, a mio avviso, della teofania che la ginestra ci propone è quello di riconoscere, nei riferimenti a Cristo che patisce, che muore, che sperisce il nulla, e quindi il Vesuvio Calvario in qualche modo, nella prospettiva del ruolo del poeta. E questo è il problema, il poeta è il bene. Sottolineo come la ginestra si è caratterizzata, e a mio parere qui vi è una certa leggerezza, a meno per quanto riguarda, per quanto mi pare emergere dalla critica, lo sdoppiamento dell'accusa, dell'accusa, della protesta leopardiana, che non è soltanto la protesta nei confronti della natura matrigna, e quindi una protesta di tipo ateistico e quindi l'antiteodicea leopardiana, non c'è ombra di dubbio, ma è anche una protesta di tipo culturale e politico, è una protesta contro il mondo, e questo specie, cioè contro il mondo civile, il mondo umano. In qualche modo la storia della contemporaneità per Leopardi è una storia che raddoppia la violenza naturale, metafisica e ontologica. Quindi il problema del vero amor sostanzialmente, della solidarietà, della catena solidale tra gli uomini, è una risposta che potremmo definire di tipo, tra virgolette, evangelico secolarizzato, che si dà a una dimensione di negazione dell'umanità che domina nella cultura del tempo. Quindi la protesta ontologico-metafisica di Leopardi è anche una protesta civile, è anche una protesta paradossalmente politica, e questo ritorna a mettere a fuoco questa dimensione fortissima, direi, di missilismo politico-civile di Leopardi. Ovviamente quando io dico che vi è un parallelismo, vi darò qualche esempio, tra Ginestra e Crucifissione e Morte di Cristo ho degli esempi testuali. Un esempio per me testuale clamoroso, che avevo già indicato in una relazione che tenia recanati lo scorso anno, è quella strana indicazione che, in ansia alla lava che la ucciderà, la Ginestra china il capo, e voi capite che questo chinare il capo per un poeta, è un pensatore, uno scrittore che si è nutrito fino a soffocarne nei testi cristiani, non può non avere risonanze bibliche, quel chinare il capo in una maniera che non è né vigliacca né arrogante, secondo quella doppia negazione che caratterizza tantissimi testi cristiani in proposito, non può non riecheggiare la morte di Cristo. E quindi non ricapitolare alla fine della composizione quella opposizione tra luce tenebra e quell'identificazione della Ginestra in fondo con la luce e con la vitalità che resiste almeno per poco, no? Che resiste al nulla e che protesta contro il nulla e che testimonia una dimensione di umanità, tutto ciò non può non riecheggiare consapevolmente Gesù e la morte di Gesù. Quindi noi potremmo dire in qualche modo in senso artodiano che la luce biblica che rimane attiva nella Ginestra è la luce dell'uomo Gesù che protesta contro qualsiasi degradazione dell'umano nel tempo stesso contro qualsiasi astrazione del divino. Cioè una umanità consapevole della sua finitezza che, come Gesù, si pone il rapporto di contestazione nei confronti del mondo. qui è assolutamente fondamentale, ve lo voglio leggere, un pensiero centralissimo di Leopardi che in realtà riformula un, ovviamente poi quando servono i testi non li trovi mai, che riformula alcune riflessioni dello Zibaldone. Eccolo qua, sì, su Cristo. È il numero 84, in realtà ci sarebbe anche l'85. Io qui sottolino un'affermazione che per me è giusta di Damiani, cioè in fine conti il tema dei pensieri è il mondo. Aggiungerei, è il rapporto tra mondo e amor sui. E noi sappiamo quante riflessioni Leopardi abbia dedicato all'amor sui. E l'amor sui come dimensione naturale in qualche modo insuperabile dell'umano. E poi il problema dei pensieri sta in indicare la volontà di indicare un'altra dimensione, che è la dimensione del bene, sostanzialmente, che viene, capitemi, incarnata dalla figura di Gesù. E allora qui troviamo perfetta coerenza tra i versi della Ginestra e questo pensiero di Leopardi che vi leggo. Gesù Cristo fu il primo che distintamente additò agli uomini quel laudatore e precettore di tutte le virtù finte, detrattore e persecutore di tutte le cose vere, quell'avversario di ogni grandezza intrinseca e veramente propria dell'uomo, derisore di ogni sentimento alto, se non lo crede falso, di ogni affetto dolce, se lo crede intimo, quello schiavo dei forti, tiranno dei deboli, odiatore degli infelici, il quale esso Gesù Cristo di notò col nome di mondo, che gli dura in tutte le lingue colte in sino al presente. Il pensiero continua, ma voi capite che è qui che si trova quel rovesciamento impositivo, paradossalmente, a livello etico, a livello culturale, anche di costruzione culturale. Cioè rispetto al tema chiave dei pensieri che in prospettiva nichilistica, scettica, corrosiva, è l'accusa all'uomo e al mondo e alla società contemporanea di promuovere l'inganno, la violenza, che reduplica la violenza ontologica e naturale. E quindi fa sì che l'uomo non sia nella sua umanità resistente, non in maniera folle e astratta, ma in maniera fragilmente consapevole nei confronti della violenza, dell'orrore e della morte. Quindi un discorso altissimo che però trova nella figura, etico altissimo, che trova nella figura di Gesù il suo punto archimedico di rovesciamento. Allora il problema è capire se esista, come credo, una alternativa evangelica o una protesta evangelica nei confronti della violenza del mondo, sia dal punto di vista naturale che dal punto di vista culturale. E quindi se il cristianesimo non possa essere smarcato o liberato dalla sua struttura teologica, per essere recuperato, d'altra parte, nella sua forma di sacralità. Qui il problema è anche il problema dell'illusione della religione, dell'impossibilità di costruire poesia, rapporto, relazione umana, società, senza un fondamento religioso. Quindi il discorso si complica enormemente. E tutto cala Leopardi nel cuore della cultura del suo tempo. Se quindi il parlare in termini ateistici, ma al tempo stesso evangelici, del poeta, cioè della ginestra, non significhi tentare dare risposte a quella dialettica tra nichilismo e imperante, insomma Nietzsche manca poco, in fondo si muove in questa traiettoria, Dio è morto, e necessità di identificazione di un senso. In qualche modo Gesù è il simbolo per motivi, vorrei dire, davvero apocalittici, di contestazione nei confronti della violenza e dell'inganno, e per la capacità di rovesciare la violenza naturale, è il simbolo di una protesta umana. Qui sorge un problema fortissimo dove noi non riusciamo a ragionare soltanto tramite certi versi di Leopardi e rovesciando questa prospettiva in fondo nichilistica nei confronti del mondo. Cioè è possibile non agire in base all'amor sui? Come può l'amore dell'altro, che è il pensiero nobile in fondo che la ginestra ci porta, la solidarietà, essere possibile in relazione a ciò che è naturalmente dominato dall'amor sui? Aggiungiamo delle notazioni, quindi in qualche modo cosa prospetta la ginestra. Voi capite che quindi la mia non è una lettura fideistica ingenua, è una lettura che indica nella ginestra il tentativo di identificare una, come dire, fra virgolette, religione civile post-cristiana, dove il cristianesimo è al tempo stesso superato e ritrattato, in una dimensione molto complessa, anche per certi aspetti equivoca potremmo dire, perché comunque la pietà tradizionale conta, la pietà tradizionale è comunque veicolo di immagini, di illusioni, e quindi anche di possibilità di identificazione di un senso. Aggiungo come queste indicazioni che vi sto proponendo affondino, spero, in una analisi diversi. Vorrei qui affermare qualcosa che ormai si evince da quanto vi ho anticipato. Allora, la ginestra è un fiore. A mio parere, qui è assolutamente centrale un'espressione che è presente in Ambrogio, nel commento al Vangelo di Luca, flos sublimis, fiore sublime. La ginestra è un fiore sublime. Questa citazione la ritroviamo in Daniello Bartoli, enormemente articolata. perché il fiore sublime è il fiore della morte, della risurrezione, della disperazione e della carità del finito e dell'infinito, potremmo dire. O ancora della morte e della rinascita, della tenebra e della luce. Ebbene, se noi andiamo, ve li leggerò, scusate se c'è questa forma di anatomia del testo poetico, è qualcosa di orrendo, ma non possiamo farne a meno. Vi leggo alcuni versi. Celebremi. Io leggo malissimo, me ne vergogno, e poi faccio bene a sezionarli, perché se dovessi leggere o parti di seguito mi commuoverei, non riuscirei a leggere. Devo essere sincero, perché lo trovo intolerabile. Allora, Odorata ginestra, contenta dei deserti, Anco ti vidi, dei tuoi steli abbellir l'erme contrade. Allora, cominciamo da questo. Contenta dei deserti. A me questo termine contenta ha scatenato poi l'identificazione dei Bartoli. Cosa vuol dire? Che cerca il deserto. Che è contenta del deserto. Che sta bene in qualche modo il deserto. Siete attenti che qui sto cercando di riassumere in un termine la dimensione della ginestra. La ginestra è un fiore chenotico. Cioè che si svuota, che si nasconde. Per questo è un fiore cristologico. È contenta dei deserti. Vuole abbellire l'erme contrade. È ciò che benedice il deserto. È il ciò, con lei, insomma. È il fiore che benedice il deserto. Ancora, Or ti riveggo. Questi sono i 6, 8, 14, 16. Or ti riveggo in questo suol di tristi lochi e dal mondo abbandonati amante. La ginestra ama i luoghi tristi e ama ciò che è abbandonato. Cioè ama la kenosi. Cioè voi capite che non può essere casuale. Siamo nei primi 10, 15 versi dell'opera con quella citazione che governa il canto. Cioè questo riferimento all'essere contento del deserto, nell'amare. In luoghi tristi, amare e abbandonati. Cioè la ginestra ama il nulla che sperisce, paradossalmente. E da afflitte fortune ognor compagna. È sempre compagna degli afflitti. O ancora, spostandoci verso 34, 37. O dove tu siedi, o fior gentile, e quasi danni altrui commiserando al cielo di dolcissimo dor mangi un profilo. Cioè commiserando il danno altrui, il dolore altrui. Cioè prossima al dolore altrui. Guardate che sono affermazioni martellanti queste. E coerentissime. Di dolcissimo dor mangi un profumo che il deserto consola. Il consolare il deserto. E ancora è tu lenta ginestra che di selve odorate queste campagne dispogliate ad ormi. Vedete perché insisto su questo essere dispogliate delle campagne? La kenosi è la spogliazione. Allora, a mio avviso, questi descrittori così staccati dal meraviglioso contesto nel quale li leggiamo, indicano coerentemente nella ginestra il fiore del deserto come fiore genotico. Cioè come fiore che patisce la sofferenza universale. Il discorso si allarga qui alla... a un altro elemento fortissimo. Allora, la ginestra è la metafora del poeta del tutto evidente. È il fiore nel quale Leopardi si autointerpreta, col quale si presenta sulla scena. Leopardi è la ginestra. La ginestra sola sul Vesuvio. È Leopardi solo sul Vesuvio. Vi risparmio una lettura di riferimenti bilbici che avevo preparato, ma vi leggo i versi che chiedo scusa ancora una volta 87-96 della ginestra. Magnanimo colui che se schernendo gli altri astuto folle fin sopra gli astri in molto al grado estolle. Vedete la negazione, no? L'antitesi. Già a suoni agentili ha identificato la presenza di riferimenti biblici. Cioè in fin dei conti chi il mondo, il secolo che tenebra l'avversario del pensiero di Leopardi giudica come magnanimo colui che si esalta. Vedete, l'anti, movimento anti-chenotico. Ma cosa aggiunge? Uom di povero stato e membra inferme che sia dell'alma generoso ed alto non chiama se ne stima ricco d'orne e gagliardo e di splendida vita o di valente persone infralagente non fa risibil mostra. Ma se di forza e di tesor me indico lascia parer senza vergogna e no ma parlando apertamente di sue cose fa stima al vero uguale. L'ho letto malissimo, chiedo scusa. Ma in fin dei conti è qui la prospettiva dell'opposizione, no? Tra l'autoesaltazione e al contrario la confessione della propria dimensione misera. In fin dei conti Leopardi si presenta qui come l'uomo dei dolori ed è evidente che non può non avere un diecheggiamento di tipo cristologico. E qui il deuteroesia senza bellezza no? Senza gloria sfigurato disprezzato cioè vi è qui un'autointerpretazione martiriale del poeta contrapposto al mondo che si muove in dimensione totalmente chenotica. Allora vi è perfetta coerenza tra l'autopresentazione del poeta e la ginestra e vi è ancora perfetta coerenza interpretativa tra tutto questo è una topos cristologico sostanzialmente. Aggiungo il tempo scorre tranquillo sì allora apro un'altra questione che è una questione divertente ma a mio avviso non secondaria che è la questione poi mi devo fare multifocali perché qui c'è le note in corto 8 sì poi c'è io sono sennò non riesco dato che sono come Bartoli lo corroio quando scrivo se non stringo piccolo non riesco a controllare poi il periodo allora una questione variazioni botaniche le definisco così cos'è la ginestra? Allora gli alberi in particolare sono tre ginestra tamerice ginepro ginestra ginepro hanno anche una connessione no immediata da un punto di vista lo sentiamo immediatamente io non mi intendo di botanica sono fiori di siepe sostanzialmente e tutti e tre hanno una straordinaria fortuna biblica la ginestra un po' più nascosta vi faccio notare come recentemente lo iuniperus che è la pianta sotto la quale si pone Elia nel deserto venga tradotto con ginestra ginestra ginepro in altri testi per esempio nello stesso nello stesso Martini rimane il più diffuso termine di ginepro allora ripeto qui vi dovete fidare presto pubblicherò un articolo in cui queste fonti vengono documentate ricercando si riesce a capire come ci siano vari riferimenti biblici all'identificazione di Cristo in particolare della croce di Cristo sia con il ginepro la pianta sotto la quale va Elia che con la ginestra cioè noi abbiamo nella tradizione a partire dal medioevo come la tradizione esegetica quindi teologica e spirituale un'esplicita identificazione tra Cristo e ginestra non diffusissima ma ad esempio presente in un manuale celeberrimo poi capire cosa leggesse quanto leggesse non basta la presenza di un libro nella biblioteca Leopardi per provare che Leopardi ne dipenda ciò nonostante vi è un manuale fondamentale che ovviamente io ora eccolo qui il Reductorium Morale Super Totam Bibliam è composto intorno alla metà del XIV secolo da Petrus Bercorius da Bersuia che è presente nella biblioteca Leopardi e perché è particolarmente interessante perché è un prontuario e quindi come dire è un'opera celeberrima e prestigiosissima nella cultura sia tardo-medievale che moderna a cui molti teologi attingono e qui è probabile per cui è probabile che Leopardi lo potesse consultare ha una voce ginestra e all'interno di questa voce ginestra con riferimenti biblici ha tra tante interpretazioni anche l'interpretazione di ginestra come croce di Cristo ripeto questo tema viene testimoniato anche in altri testi più tardi di età moderna oltretutto vi è anche l'identificazione tra ginestra e milica e cioè la tamerice che è una pianta complicata oltretutto è una pianta sotto la quale viene indicata la maledizione divina quindi vedete è una pianta di esertica e quindi di maledizione ma infine anche tra ginestra e ginepro come vi dicevo sicché l'albero sotto il quale Elia nel deserto chiede a Dio di morire ora basta dice cioè un albero molto leobardiano potremmo dire è il ginepro ginestra ripeto qui c'è tutta una serie di testi medievali e moderni che è possibile citare passo allora a quello che vi avevo proposto e cioè a riferimento alle opere morali di Daniello Bartoli che per me sono state una veramente un'epifania non posso dire un'adeofania è un'epifania consentitemi di dire innanzitutto come ci sono arrivato ci sono arrivato cercando di ragionare sull'aggettivo della ginestra contenta questo contenta mi ricordava la fine dell'elogio degli uccelli e delle opere e te morali avevo dato indipendentemente un'interpretazione delle opere e te morali dell'elogio degli uccelli come luogo di risonanza della parabola biblica matteana e sinottica dell'uccello dei cieli e dei gili nei campi a mio avviso è evidente ricordo che quella operetta morale si conclude proprio in riferimento alla letizia la contentezza degli uccelli a mio avviso anche la contentezza l'essere contenta della ginestra non poteva essere esente tanto più che un fiore di straordinaria importanza e rilevanza appunto in questo immaginario teologico tradizionale non poteva essere esente da riferimenti biblici in particolare dall'iferimento evangelico cioè l'essere contenta mi pareva un termine teologico molto forte mi pareva un termine evangelico ho cercato quindi ovviamente sul web che in certi casi è benedetta la connessione tra fiore e contento e mi apparsa un'opera che è la povertà contenta di Daniello Bartoli non avevo presente l'affermazione di Leopardi che Daniello Bartoli quando l'ho letta sono saltato dalla gioia ovviamente sulla sedia e per lui il Dante della prosa italiana è un'opera edificante di Bartoli in cui esalta la povertà che è elezione del nulla elezione del nulla non avere nulla come vivere di pienezza ed essere contento di questo nulla voi capite quanto sia calibrata sulla prospettiva sulla prospettiva della ginestra e che cosa si trova? si trova ovviamente l'identificazione del povero contento con il giglio del campo e viene definito Gesù il giglio il re dei gigli e il re dei fiori e allora da questo punto di vista chi è Gesù? è il re dei fiori che è il signore dei poveri di coloro che vivono di nulla è un fiore del nulla è un fiore da nulla qui mi sono venute in mente delle espressioni di prete in quel suo volumetto che la donzelli sulla il fiore il deserto mi pare che sia il fiore del deserto e chi chiude proprio con questi riferimenti sul fiore almeno un capitolo sul fiore come fiore da nulla ma qui in senso fortissimo cioè il fiore contento del nulla allora nella tradizione spirituale e teologica questo fiore del contento del nulla è il Cristo l'archetipo della povertà assoluta nel senso l'undicesimo canto di Dante del paradiso di Dante capiamo e i poveri che sono contenti del nulla che imitano questo a partire da questo ovviamente la curiosità ho trovato digitando il rapporto tra Leopardi e Bartoli il saggio di Raimondi che vi citavo ma ho trovato appunto le opere morali di Bartoli le ho lette quasi sistematicamente perché sono mille pagine e sono rimasto sbigottito perché soprattutto all'interno di un'opera molto importante di Bartoli la ricreazione del Savio che è un'opera di Teodicea dove il saggio notate anche l'ambiguità del termine ricreazione è colui che ha il tempo di contemplare la creazione e di riconoscerla come teofanica ma al tempo stesso di ricrearla cioè di seguirne la manifestazione perché sono rimasto sbigottito perché a parte la straordinaria potenza della prosa indubbiamente è uno scrittore enormemente prolisso ma al tempo stesso veramente uno scrittore trascinante torrenziale in qualche modo veramente un grande scrittore barocco ma sono rimasto sconcertato perché in particolare nella ricreazione del Savio ma anche in altre opere troviamo tutte le scansioni tematiche della ginestra la mia tesi è che la ginestra sia composta con la ricreazione del Savio davanti perché ne è il rovesciamento cioè ne è la lettura non siamo abituati contro pelo cioè la lettura in dimensione ateofanica e allora vi indico non voglio andare troppo in là mi interessa più il dibattito adesso che appunto entrare poi nel dettaglio vi potrei leggere tanti passi vi faccio notare soltanto che per esempio in Bartoli noi troviamo un'espressione che sono convinto che c'era tantissimo da Alberto Folin i fiori vengono definiti i fiori filosofi che per la ginestra è interessantissimo cioè i fiori filosofi perché conoscono il nulla e rivelano il senso della realtà sostanzialmente che ovviamente è il senso teologico per Bartoli cioè il nascondersi che è notico del senso nel nulla che i fiori riescono al tempo stesso a esperire ma che nella loro bellezza vincono nella loro grazia vincono allora vi dicevo della corrispondenza nella ricreazione del Savio noi abbiamo un brano eccezionalmente interessante di Tertuliano vedete che come dire c'è sempre un input patristico potremmo dire dentro le grandi composizioni di Leopardi eccolo qua scusate un attimo ve lo leggo Bartoli ragiona su queste tre specie di nature i morti nicchi delle conchiglie ai quali noi sostituiremo i gusci delle chiocciole cosa senta nella ginestra i solvivi e rustichi fiorellini delle siepi i fiorellini delle siepi e il luogo dei tetraoni cioè presente di faggiani qui sta dipendendo da un testo tripartito di Tertuliano i meno mi anima lucci a venti anima con le loro facoltà le loro passioni i loro sensi allora ripeto qui c'è un passo di Tertuliano che viene citato appunto da e dall'avverso su Marcionem che viene citato in funzione antignostica e antimarcionita un brano antignostico e antimarcionito marcionita cioè un brano in cui Tertuliano si impegna a confutare i detrattori della creazione divina e dà come prova della meravigliosa provvidenza e come evidenza teofanica l'esempio appunto delle chiocciole minuscole ci sono dei brani meravigliosi di Bartoli che si perde nel labirinto della descrizione della composizione della chiocciola i fiori di siepe e gli animali minimi e voi sapete cosa sono le formiche quindi dà origine a una lunghissima trattazione delle formiche il brano è particolarmente interessante per quale motivo perché ovviamente recupera i luoghi classici a partire in particolare da Seneca ma non è l'unico Seneca in cui il tema delle formiche è un tema come dire di depreciamento filosofico e stoico delle grandezze umane nella prospettiva no di ascendere in qualche modo al cielo e guardare la juola che ci fa tanto feroci in prospettiva filosoficamente distaccata aggiungo che in Bartoli sia la trattazione dei poveri contenti che la trattazione dei fiori è preceduta da lunghissime descrizioni sulla distruzione delle civiltà sia per guerre sia per eventi naturali cioè noi abbiamo l'identica struttura della ginestra distruzione per cui Roma lamento su Roma e ora ridotta a rovine o lamento di Cartagine dei Romani o addirittura lamento di Pompei in uno scritto un altro scritto dai simboli di Bartoli ci si lamenta su appunto tu quell'anfiteatro vuoto ciò che il vulcano o il terremoto o le guerre o altre civiltà hanno distrutto la vanità delle grandezze umane contrapposta alla semplicità del fiore alla povertà contenta del fiore e al tempo stesso il tema delle formiche dove Bartoli dice non dobbiamo farci ingannare dal fatto che siano così piccole ovviamente lui è interessato ad esaltare il miracolo della società delle formiche di questa razionalità come dire primordiale no delle razze delle formiche che riescono a costruire società gerarchie case alberghi società anche dei versi della ginestra e che addirittura abbiamo uno stesso termine un grosso animale a terra ricordate ricorrere di a terra no la maturità che atterra quel frutto che così facendo schiaccia eccetera eccetera e dice Bartoli non dobbiamo farci confondere dal fatto che basta un animale un po' più grosso atterrare e a distruggerle perché in qualche modo quelle formiche sono l'umano in Bartoli questo ovviamente sta ad indicare quella dimensione umana teofanica ordinata provvidenzialmente governata il Leopardi ovviamente viene recepita alla dimensione soltanto della distruzione della contingenza della pochezza di realtà umane paragonate a quelle di formiche qui la presenza di Seneca è potentissima in Bartoli Bartoli lo chiama il morale è il filosofo morale e quindi anche interessante la ricchezza di riferimenti a Plinio a Seneca a Cicerone e ovviamente anche ai Patristici a Lattanzio ad Agostino ad Ambrogio ai Cappadoci cioè voglio dire è oltretutto uno zibaldone straordinario e io capisco la curiosità intellettuale con quale Leopardi doveva divorare queste pagine ripeto noi troviamo il tema delle guerre mondane delle distruzioni delle civiltà connesso al tema della povertà contente dei fiori filosofi al tema dei piccoli animolucci e delle formiche che da teofaniche diventano ateofaniche nella prospettiva leopardiana ma non è finito qui perché ritroviamo in Bartoli il notturno appunto anche qui il termine senechiano dell'essere proiettati fra le stelle nel contemplare le luci nella volta celeste che sono punti qui noi abbiamo addirittura ricordo che nella ginestra il termine punto torna tre volte ricordate siamo solo un punto e così via ossessivamente un termine che ricorre in Bartoli in Bartoli ricorre l'espressione granel di rena granello di sabbia cioè anche da un punto di vista delle formulazioni terminologiche qui noi abbiamo un leopardi che ripeto all'interno di una struttura identica da un punto di vista tematico uno può dire tu stai ordinando Bartoli a partire dall'indicazione di Bartoli no perché proprio nella stessa successione in qualche modo noi scorgiamo delle stesse le stesse metafore talvolta le stesse espressioni quindi il nulla il della creazione del mondo dice Bartoli guardato dalle stelle da un punto che a noi sembra inesistente remoto una facella una piccola scintilla ricordate tutte le espressioni leopardiane e viceversa ciò che noi stessi pariamo dal cielo noi potremmo dire quelle grandezze cosmi che a noi paiono punti quindi è evidente che in Bartoli questi elementi sono elementi che recepiscono la rivoluzione copernicana copernico anche citato in maniera positiva ma che le relativizzano in dimensione biblica voglio aggiungere una cosa anche se il rituale è la cosa più bella questo mi sembra molto presente nella letteratura apologetica cristiana sardoscentesca e settecentesca che capovolge la precedente opposizione al copernicanesimo tanto che viene citato da Leopardi questa visione dall'alto per cui la terra a un certo punto diventa un punto anche nella storia dell'astronomia sicuramente c'è una citazione della storia dell'astronomia che dialoga con questi e che dipende però da Bartoli su questo non c'è un bel dubbio e Bartoli siamo a metà del seicento quindi anche subito dopo insomma la condanna galileiana quindi anche abbastanza originale come presa di posizione Bartoli non è un eliocentrista diciamo perché deve difendere la tradizione ma si apre al riconoscimento delle scoperte copernicane scoperte copernicane e alla scoperta per lui non di un mondo di uno spazio ma dell'immensità e quindi come luogo analogico della riflessione sull'infinità di Dio quindi chiaramente vi è un giro di test e di questioni qui è interessantissimo che ripeto anche terminologicamente in quello che ho definito appunto il notturno noi abbiamo questo filosofare fra le stelle è un'espressione di Bartoli cioè mettersi nella prospettiva del filosofo che vede la nullità della creazione del mondo ovviamente nella prospettiva cristiana apologetica è rispetto alla grandezza divina ricordo che comunque già in Isaia noi avevamo un versetto e un contesto biblico in cui dall'alto dei cieli la terra sembra solo un punto erisorio oltre al di là appunto delle delle dei riferimenti danteschi ma non è finita qui la cosa assolutamente clamorosa è che io ho notato con sconcerto rispetto a un attore studiatissimo quindi questa anche è fortuna devo dire la verità è che in un capitolo fondamentale dedicato alle mani chi legge ma Bruno dovrebbe trovare anche un altro elemento di interesse noi troviamo un lunghissimo escurso sulla natura matrigna con l'espressione natura matrigna natura novecca la citazione di Plinio e tutta una serie di altri riferimenti biblici e patristici ricordo che appunto l'espressione natura matrigna la troviamo nella ginestra cioè allora voglio dire non può essere casuale la sistematica corrispondenza è il culmine della natura matrigna ma se voi ricordate il tema della natura matrigna io ora qui dovrei prendere i versi ho sempre scrupoli nel riprendere i versi scusate un istante ci permette di connetterlo al tema del riso perché anche il tema del riso che voi saprete quanto sia assolutamente centrale leopardi e quanto lo sia non sto avviando chiudere in dieci minuti e chiudo di quanto sia importante anche dal punto di vista della valutazione filosofica ridere del mondo mi pare che si intitoli un libro del mio collega in sapienza Emilio Russo cioè la prospettiva leopardiana come appunto anche nelle operette morali quanto sia dominante il tema il tema il tema del riso ma volevo concentrarmi ancora sul 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 tema della natura matrigna ricordo che veramente rea che dei mortali madre di parto e di voler matrigna coste chiama inimica se voi prendete Bartoli appunto il capitolo dedicato alle mani ancora non ricordo mi pare sia il quindicesimo non fatemelo cercare trovate una serie di testi e questo il testo di Plinio da cui più direttamente dipende dipende Leopardi con delle meravigliose anzi ve lo leggo un passo un meraviglioso escursus di Bartoli in proposito che può rimandarci ancora una volta a un'altra no un'altra all'operetta morale che vi citavo prima e quindi è molto imparentata con la ginestra che è l'elogio degli uccelli sulla questione del riso allora scusate qui mi sono ovviamente confuso ma lo troverò vabbè ve lo riassumo allora cominciamo a leggere questo brano dell'elogio degli uccelli cosa certamente mirabile questa che nell'uomo il quale in fra tutte le creature la più travagliata e misera si trovi la facoltà del riso aliena da ogni altro animale mirabile ancora se l'uso che noi facciamo di questa facoltà poiché si vengono molti in qualche fierissimo accidente altri in grande tristezza d'animo altri che quasi non servano alcun amore alla vita certissimi della vanità di ogni bene umano pressoché incapaci di ogni gioia e privi di ogni speranza non di meno ridere il riso è specie di pazzia non durabile oppure di vaneggiamento e delirio considerando che gli uomini come sono infelicissimi soprattutto gli altri animali e zian Dio sono dilettati più che qualunque altro da ogni non travagliosa alienazione di mente dalla dimenticanza di sé medesimi dalla intermissione per così dire della vita dove o interrompendosi o per qualche tempo scemandosi loro il senso e il conoscimento dei propri mali dicevano un piccolo beneficio ebbene tutto ciò è presente in Barcovi mi cito una espressione riferita a un capitolo dei singoli trasportati al morale all'interno delle opere morali dove il riso è definito effetto d'allegrezza ma più veramente insagna d'animo per eccessivo dolore poco men che impazzato notare anche la bellezza stilistica cioè in fine conti è l'eccesso di dolore che determina il riso che è una modalità di salvaguardia nei confronti della disperazione che l'uomo prova vi sono anche dei riferimenti che potrebbero approfondire paralleli alla figura di Democrito Ridente a cui Bartoli dedica un capitolo alla ricreazione del Savio che torna in vari contesti leopardiani ma aggiungo vi è un'altra notazione molto interessante quella che per Leopardi il pianto preceda il riso e che il riso non si averà la citazione virgiliana ricordate che il bambino impara dal riso cioè in qualche modo si soggettivizza a partire dal riso della madre anche in questo caso la dipendenza è dal passo di Bartoli che parla del riso come più tardo rispetto alle lacrime e lo definisce pellegrino imprevisto un violento imprevisto e pellegrino sciocco in qualche modo di quest'anima che è un'anima che normalmente naturalmente soffre qui è un lavoro interessante di mediazione di testi classici di tradizioni classiche che in Bartoli vengono disposti in prospettiva apologetica e poi infine in Leopardi vengono recepiti ma per essere rovesciati quindi lo ripeto il nucleo della natura matrigna della natura rea e della protesta nei confronti di questa natura rea è preso da Bartoli che ovviamente cita tante fonti tante fonti antiche lo fa in prospettiva apologetica per confutarle cioè per mostrare che la natura non è rea non è matrigna ma è benigna perché è dipendente da un dio provvidente Leopardi disattiva ovviamente questa confutazione di Bartoli che considera come non convincente consentitemi una piccola e ultima notazione operette morali se il capolavoro della prosa italiana sono le opere morali di Bartoli che vedete fino all'ultimo Leopardi sono così fortemente incidenti ripeto sono il modello di prosa e Leopardi in una lettera del 19 quindi se ha letto parecchio già voglio dire un già Leopardi maturo dice di avere soltanto le opere morali di Bartoli quindi sono il testo di riferimento di Bartoli che lui ha è possibile che il titolo di operette morali non sia una volontaria citazione diminuzione in chiave appunto scettica chiamiamola così e polemica del capolavoro della prosa italiana che per lui sono le opere morali ripeto noi abbiamo il capolavoro della prosa italiana le opere morali e abbiamo un vero capolavoro potremmo dire la prosa italiana sono le opere morali che pretendono di rovesciarne la prospettiva in chiave ovviamente filosofica in chiave quindi antiprovidenzialistica rifiutandone la teodicea e così via allora chiudo a mio avviso cosa comporta un lavoro che vi ho riassunto in maniera piuttosto disordinata perché i materiali sono tanti ho insistito antologizzando una lunga serie di testi che mi sembra che provino in maniera evidentissima una dipendenza sistematica però è la conferma che la ginestra sia un fiore cristologico sostanzialmente ma di una cristologia ormai totalmente umanizzata in fine conti la ginestra è il simbolo del poeta che nell'esperienza radicale del nulla riesce ancora a cantare la vita e la bellezza protesta nei confronti della violenza del mondo e testimonia una dimensione irriducibile di bene di bontà di carità secolarizzata sostanzialmente sappiamo no qual è il motivo civile il rifiuto della guerra il rifiuto della violenza questo che cosa vuol dire che la struttura della ginestra lo ripeto diventa una vera una struttura dialettica di tipo apocalittico di tenebra luce ma che la luce questa volta è affidata alla poesia di un martire cioè in fine conti dobbiamo riflettere se non che lo faccia io ci sono già studi qui voglio citare anche franco dentino che mi ha dato delle indicazioni preziose un filo rosso prezioso pensate a riflettere di Leopardi in dimensione in fondo martiriale cioè il poeta è un martire della bellezza e della verità per riprendere il titolo del nostro incontro è un martire della bellezza e della verità è un martire del bene è un martire che si oppone al mondo e che recupera la figura esemplare di Cristo mediando come dire dimensione stoica ma addolcita da questo senso profondo della solidarietà nei confronti dell'inerme dell'ultimo del perseguitato sostanzialmente di ciò che non ha né gloria né bellezza nell'uomo dei dolori leggere la ginestra senza questa struttura cristologica a mio parere non ci consente di cogliere non soltanto un grado di bellezza e di profondità ulteriore ma anche la sua dimensione eversiva e addirittura il suo coraggio di prospettiva di fuoriuscita dal cristianesimo allora cioè come dire qui io cito un'espressione di proprio di Nietzsche non riuscire mai a farla finita col cristianesimo cioè non riuscirne mai a uscire fuori davvero a mio parere da questo punto di vista la ginestra dà un'indicazione di questo tipo cioè il tentativo di prospettare un'etica e una poetica post cristiana che però continua ancora ad essere consapevolmente volutamente segnata dall'esemplarità cristiana ci fermo qui poi magari nel dibattito aggiungiamo qualche cosa allora veramente grazie molto per questa importante riflessione e grazie molto soprattutto per aver interpretato il tuo contributo nel senso del nostro laboratorio cioè che qui si presentano e si discutono i lavori che si stanno facendo e ora voi interverrete con domande con osservazioni forse obiezioni non lo so però certamente è una proposta particolarmente suggestiva e ricca mi permetto di aggiungere che spesso gli interpreti che sono dotati di bassissima cultura e di grande sensibilità però forse oggi negli ultimi decenni frequentando di meno la letteratura biblica e poi apologetica comunque legata al cristianesimo che era invece il terreno in cui è stato cresciuto Leopardi talvolta magari non colgono alcuni aspetti che avrebbero potuto cogliere se avessero tenuto presenti questo tipo di letteratura e Gaetano che è così non solo sensibile ma anche gran conoscitore della letteratura cristiana ha potuto dare questo tipo di lettura io poi lo dico subito ho tantissime cose da dire ma ovviamente quanto moderatore adesso do la parola a voi do prima la parola a voi volevo ringraziare Gaetano scusa un attimo sto parlando e a coloro che sono intervenuti e a coloro che non sono ancora intervenuti in questo dibattito negli altri giorni prego Massimiliano volevi aggiungere dire qualcosa volevo ringraziare veramente tanto Gaetano perché ha ha chiarito una delle funzioni di quest'istituto cioè quest'istituto è senz'altro sempre e comunque dalla parte di Spartaco questa potrebbe essere una parola d'ordine dell'istituto italiano per i studi filosofici ma la la questione del deserto e della ginestra la questione che l'avvocato Gerardo Marotta ha voluto creare delle scuole in ogni territorio più remoto del mezzogiorno d'Italia ha voluto inseminare il deserto con dei fiori è questione che noi dobbiamo riprendere nonostante la nostra mancanza di finanziamenti noi dobbiamo andare nei luoghi più desertici del mezzogiorno d'Italia e inseminarli con la parola di Gaetano Lettieri con la parola di questi grandi interpreti del pensiero poetico del pensiero filosofico del pensiero religioso questo deve essere il nostro obiettivo massimiliano dobbiamo continuare per questa in questa direzione io spero di essere stato chiaro Gaetano sì sì ma siamo sulla stessa lunghezza donna ne sono convinto cioè senza di questo siamo perduti cioè il deserto avanza no? quindi per citare e dobbiamo andare nel deserto dobbiamo andare nel deserto dobbiamo essere ginestre e impedire la desertificazione dei luoghi e la desertificazione degli spiriti questo deve essere un nostro obiettivo altrimenti la Repubblica è perduta ma guarda Massimiliano io ti vorrei dire questo che in fin dei conti è la combinazione tra per me che sono un cristianista cioè quando io sento deserto cioè mi viene subito in mente Isaia il deserto fiorirà cioè la dialettica deserto fiore è fondamentale io ho tagliato una marea di riferimenti biblici pensate Isaia 11.1 no? il riferimento è al fiore di Iesse se voi prendete appunto lo scritto sulla crocifissione giovanile di Leopardi che cosa c'è sul Calvario che è questa montagna dell'orrore c'è il fiore di Iesse allora questi contrasti sono contrasti che immediatamente tornano evidenti nella ginestra non è che Leopardi ha cancellato come dire la sua lettura o la sua modalità di proprio di la sua forma mentale perdendo la fede è rimasta quella ma tu dicevi una cosa fondamentale cioè in fondo il problema della dialettica tra deserto e fiore è il problema nel senso che noi diamo al nostro diore civile ha una dimensione etica fortissima e potentissima e la questione è quando la religione tramonta o finisce o siamo alla fine del cristianesimo cosa progettare come progettare con quali simboli con quale metafore quali in fine conti da questo punto di vista davvero da Vico a Leopardi il poetico ha una razionalità che struttura il nostro modo anche di interpretare il reale l'immaginario quindi mantiene una razionalità assolutamente irrinunciabile questo è un altro elemento per cui anche qui tutti i riferimenti ricordate alla resurrezione no della appunto l'esaltazione del rinascimento che sono al centro della ginestra come contestazione del secolo superbo e sciocco che ha voltato le spalle al lume alla razionalità che era risorta solo per cui risorgemmo allora cosa significa questo significa che ancora una volta però l'immaginario è quello cristologico che non viene utilizzato per prenderlo in giro ma perché comunque indica una dialettica tra esperienza dell'annunità del deserto dell'idiozia dominante diciamo la verità dell'idiozia dominante e possibilità no del miracolo del miracolo del bene della bellezza sostanzialmente allora ci serve identificare queste dialettiche dell'immaginario simboliche metaforiche per citare l'opera di Bartoli il simbolo rivolto in morale allora dobbiamo capire che queste strutture sono strutture potenti dove però noi siamo stati così disattenti ecco ringrazio quindi Massimiliano non essere più in grado di riconoscere le strutture cristologiche che al tempo dei Leopardi per me erano del tutto evidenti per cui Leopardi è un'opzione puramente ateistica anticristiana sicché le strutture simboliche finiscono per non essere più riconoscibili al contrario è proprio l'identificazione di quelle strutture simboliche che ci fa capire la novità radicale degli Leopardi cioè il fatto perché sia un pensatore assolutamente inattuale in anticipo ho già dilagato nella quindi grazie Massimiliano e ancora un'ultima cosa uscendo fuori dall'occidente e andando nell'oriente io annego quindi non ho competenze ti anticipo subito però dimmi cosa fanno il Pandua nel poema celeste nel Mahabharata dove vanno a rigenerarsi in esilio vanno nel deserto vanno nel deserto a rigenerarsi per riappropriarsi della propria funzione politica della propria funzione di guida e tornando in occidente cosa ci dice Sartre nella sua grande lezione ad Atene perché la borghesia ha perso la sua funzione politica perché ha perso la capacità di soffrire ha perso la capacità di soffrire ha perso quindi la capacità di andare nel deserto su queste questioni noi dobbiamo assolutamente riflettere dobbiamo assolutamente riflettere perché l'occidente è allo sbando ma qui mi vengono in mente versi straordinari per farvi contestare anche non belli ma penso anche ai paralipomeni sostanzialmente che come dire è il rovescio in qualche modo in negativo sarcastico totalmente distruttivo che si ruba tocchi in qualche modo come rivoluzione come guerriero che resiste è però l'incarnazione della virtù però anche in quel caso la virtù che patisce che muore però le pagine di Leopardi di contestazione al mondo dei consumi che emerge dalle pentole al fiocchetti sono di una lucidità straordinaria perché appunto lo dicevi bene in fin dei conti anche i nuovi credenti chi sono? sono coloro che non colgono il cristianesimo come esperienza radicale quindi tradiscono la tradizione religiosa come esperienza radicale della passione che è l'unica attuale attiva quindi che ancora una volta restituiscono il mondo la società in una maniera idilliaca senza averne esperienza del nulla che consuma tutte le cose che ci deve chiamare a gesti atti di responsabilità di solidarietà mi permetto di citare mio padre che diceva sono cattolici non cristiani non è male è bella come definizione in effetti allora chi vuole intervenire in sala oppure anche da remoto magari scrivendo in chat il proprio desiderio di intervenire prego non mi fate rompere il ghiaccio perché ho una rompighiaccio in questo momento prego io vorrei che prima intervenisse chi è in sala oppure gli è dare modo che ci sta ascoltando prego no dunque allora la signorina allora la signorina qua prego dico signorina in modo un po' centesco io continuo a dirlo mi piace per favore orientatela cinepresa verso la signorina perché se no non si vede un po' di più un po' di più no 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 va bene d'accordo difficile mettere assieme tutte le comunque queste suggestioni che la sua lezione mi ha dato innanzitutto grazie tante che adesso appunto sulla tematica del deserto stavo insomma pensando anche molto a come questa viene declinata da una parte in poi che apre solo il ghiaccio a questo sostrato appunto pubblico sulla tematica della desertificazione a come nel nostro novecento si arriva a Ungaretti quindi a questi lenni che ricorrono tra il porto sepolto e il deserto da cui poi si instilla il germe poetico per in qualche modo dire l'inefabile che nella tematica di Ungaretti poteva essere anche l'orrore della guerra appunto quindi come anche l'utilizza la tematica diciamo della natura con i suoi fiumi appunto per definirsi per ritrovarsi e in qualche modo fare quella geografia poetica che dal porto sepolto accompagnerà nel rifare appunto la parabola delle città che l'hanno attraversato e anche lui poi è sintomatico perché si parte tutto dal deserto dall'esterno d'Egitto eccetera fino ad arrivare poi a Elliot appunto la terra desolata quindi comunque si ancora si usa ancora forte questa metafora la mia era più che altra una domanda se abbiamo detto che appunto l'Egitto ha trovato in città due quali credenti appunto quindi come questa appunto è facile per loro riproporre questa metafora per cui appunto non c'è la stessa ambiguità che permane appunto di Leopardi sebbene appunto l'hai stato forte nel definirlo appunto questa atea cristologia appunto con cui Leopardi la ripropone lì con una questione ancora più comunque problematica e in qualche modo risolta aperta la mia era più che altra una curiosità cioè ci ha riproposto appunto i Lemmi dal punto di vista sia filologico che metaforico con cui appunto Leopardi ripropone Bartoli quindi più che altro le corrispondenze la sua analisi appunto si arresta penso anche comunque per questioni di tempo su quella social catena che lei ci ha detto in Bartoli e non è ripresa appunto questo dettaglio perché Bartoli è un po' edafredente comunque è un gesuita quindi in lui non c'è la stessa eccezione della social catena leopardiana arrivati a quello appunto verso la fine quindi un po' alla proposta leopardiana di appunto di resistenza della lenta ginestra di corazza nell'umana compagnia Bartoli proprio come risolve poeticamente questa metafora cioè cosa propone anche nelle opere morali che immagini dà di risposta sicuramente appunto saranno cristologiche ma anche qui non c'è un richiamo di nessun modo proprio alla società all'umana al fatto che l'uomo insomma può fare qualcosa si può corazzare unire e non insomma soltanto rifugiarsi appunto nella speranza della della salvezza cristiana una domanda molto chiara c'è ci sono ovviamente la domanda è opportuna anzi devo essere onesto anch'io mi ero impegnato poi alla fine il problema che uno anniga a documentare anche questo aspetto consideri che è un autore gesuita e quindi i gesuiti sono i grandi costruttori della chiesa della cattolica della contrariforma e che quindi vivono una dimensione appunto della catena chiamiamola così culturale sociale fortissima certo pensa anche alla povertà accontenta come dire è facile per qualsiasi autore cristiano la dimensione della carità è una dimensione di connessione quasi ovvia cioè ad esempio la possibilità di vivere senza la volontà di primeggiare la violenza la ricchezza la concorrenza significa essere universalmente solidari nei confronti della fragilità delle creature quindi è forte addirittura ci sono anche degli elementi in cui pare pare che Bartoli recuperi prospettive epicuree mi spiego perché poi questi giudizi leggevano tutto ovviamente sia le testimonianze antiche che le testimonianze filosofiche moderne cioè come se ci fosse in fondo quello su cui insiste lo stesso Lopardi un'esigenza quando lui ricorda ciò che per prima ha fondato la socialità in fondo è l'orrore dell'esistenza è lo spavento è la paura quindi questi elementi epicurei e poi lucreziani grande problema a letto come a letto lucrezio non voglio aprire queste cataratte però sicuramente lui ha letto ad esempio in Bartoli tutta una serie di testi classici immediati che aveva a disposizione immediatamente allora lì ci sono anche degli elementi un pochino più vicini a quanto a quanto lei indica c'è una socievolezza naturale dell'umano che ovviamente viene vista in termini positivi che non riesce a diventare alternativa all'amore evangelico alla carità evangelica che ovviamente è unico ma che però dà traccia di elementi culturali di prestiti culturali che vengono recepiti quindi a mio avviso non che in fin dei conti comunque voglio dire non c'è bisogno per questo io non mi sono incaponito cercare aspetti di questo tipo per cui il rischio è quello del vicolo cieco per come dire in maniera meccanica dire che Leopardi se c'ha un'idea la deve prendere in Bartoli non so se mi spiego in fondo è l'esito quello della carità senza Dio no? di una prospettiva ateistica sulla tradizione religiosa cristiana cioè rimane cosa rimane? rimane l'amore per l'altro la solidarietà il compatire cioè se il modello è quello della ginestra che patisce la ginestra però compatisce evidentemente il modello è quello appunto del Cristo che è uomo dei dolori che compatisce con i dolori del popolo quindi ancora una volta un modello biblico un modello in fondo messianale separatizzato e quindi umanitario io prima citavo Benichoux che è molto forte anche dopo il trauma della rivoluzione francese la restituzione della tradizione cristiana in chiave umanitaria e allora anche autori appunto come Costin come Lanné come Chateaubriand per esempio hanno che sono influenti sui leopardi comunque cominciano a sviluppare una restituzione in chiave umanitaria del cristianesimo che loro non esclude l'opzione teologica le cose poi soprattutto in un attore complicato come a me evolvono ma che insiste per recepire anche umanitarismo diciamo post-rivoluzionario insiste su una declinazione umanitaria del cristianesimo anche perché calandolo in questa dimensione umana e immettere una dimensione politica appunto paritaria di azione non solo di contemplazione poi allora qui io ho Alberto Folin una cosa su cui Alberto Folin insiste è non cercare la coerenza a tutti i costi cioè soprattutto un genio al tempo stesso critico e poetico come leopardi cercare l'assoluta coerenza è un è un è un è un è un è un svilente proprio perché la complessità dell'umano stessa la confuta cioè quindi l'essere coerente è essere stupidi tutto sommato no? Anche perché ieri dicevamo in un autore che ha detto che usa la filosofia per poi rovesciarne questa sommità di questa filosofia sembri per rovesciarne scusa scusi di questa filosofia la sommità cioè lui dice la somma filosofia è dimostrare la in realtà della filosofia che poi appunto sembri ma che questa è una tradizione ma è c'è di pascaliana che già pascal aveva messo al centro della sua interpretazione addirittura il cristianesimo dello svuotami che è molto interessante una lettura scusi se ora lei mi ha dato un elemento importante anche da questo punto di vista cioè una lettura cerco di spiegarmi in termini un po' rozi illuministica in senso restrittivo della ginestra è fallimentare proprio per questo motivo perché non riesce a render conto del disastro del deserto no? della insensatezza e della resistenza alla razionalità in qualche modo no? se non appunto una dimensione del totale dispersione del dubbio e spegne totalmente quello che invece è proprio del genio e che è attivare comunque significati non so se anche contraddittori e quindi contraddittori l'oscillazione per esempio io mi sono impegnato vi ho molto male espresso questi contatti con Bartoli sulla questione del riso che è interessantissima sul riso che arriva tardi sul riso che è l'eccesso del dolore sul riso che insegna che arrivando tardi insegna come la dimensione originale dell'umano sia appunto il dolore e non il riconoscimento allora il problema del riso è un problema che poi è il problema dei paralipomeni sostanzialmente no? cioè il ridere o anche il problema di aspatio cioè potremmo fare tanti riferimenti di alcune operette morali il sarcalmo è un elemento dialettico in Leopardi non è un elemento univoco e da questo punto di vista al riso risponde come diceva lei il senso sostanzialmente umanitario ricordate non so se riso o pietà ora non me lo ricordo a memoria o pietà o pietà prevale è questa oscillazione fantastica l'ambiguità insuperabile io direi liberante di Leopardi riso o pietà prevale e quindi singolo tutte e due io quasi se posso io faccio così direi proprio da partire da questo ultimo punto grazie dunque insomma dico guarda la lezione a cui avete assistito questa sera e lo dice uno che un po' di Leopardi così l'ha letto diciamo per un po' di anni credo che contribuisca a dare una svolta un po' alla critica leopardiana che per molti molti anni molti decenni diciamo si è limitata a fare una constatazione affrettata circa l'ateismo di Leopardi circa l'estraneità del materialismo leopardiano a una visione come dire non teologica né religiosa ma aperta al religioso come interrogazione e finalmente si comincia a riflettere in questa direzione devo dire con una certa sorpresa che si sia fatta così tardi perché è talmente evidente mi sembra e a me è sempre parso evidente che in Leopardi agisce una profondissima esigenza e come dire una una un essere trascinato quasi verso la riflessione la domanda ontologica fondamentale perché le cose non in nulla che si innesta all'interno della tradizione religiosa cristiana anzi lasciamo stare religiosa alla tradizione cristiana al cristianesimo ecco al cristianesimo queste ricerche che hai fatto e che oggi ci hai esposto così bene sono ricerche che la non lasciano ombra di dubbio anche dal punto di vista delle fonti cosa che avevo dovuto sempre essere stato chiaro e devo dire ci sono alcune cose che volevo partire proprio dal riso che dunque in un lontano libro del 1991 quindi quanti anni sono passati ho dedicato un intero capitolo al riso di Leopardi a quell'epoca non ne parlava nessuno del riso di Leopardi non si erano nessuno o pochissimi si erano accorti che Leopardi non solo piangeva ma molto rideva e facevo riferimento proprio a questo che tu hai anche al cennato quello di Democrito oltre che all'elogio degli uccelli e questa tra l'altro si potrebbe anche pensare al riso di Dante anzi al riso di Beatrice cioè io ho fatto questa distinzione che mi sembra che tu hai colto benissimo anche dopo tanti anni insomma cioè voglio dire questa distinzione tra il riso angelico e il riso satanico perché in Leopardi ci sono due tipi di riso c'è il riso angelico che è il riso degli uccelli cioè è l'apertura nei confronti della bellezza di tutto ciò che è così come esso appare nel philomenon nel suo apparire e dall'altra parte c'è il riso per esempio alla fine del canto a Spasia dove qui si getta sulla sull'erba miro e sorrido questo sorriso è il sorriso della vendetta invece in Leopardi c'è il sorriso angelico oltre che il sorriso prevale soprattutto alla fine allora ritorno qui a un punto fondamentale allora possiamo parlare di un ateismo perché Leopardi è ateo però è un ateismo che a mano a mano che si va nel tempo diventa un ateismo aperto all'interrogazione dell'essere e che si configura nel Cristo certo che si configura precisamente nel Cristo e questo lo vorrei dire anche perché da molto tempo non che si è sbagliato ma stanno sviluppando degli studi sempre aperti penso per esempio a Gilberto Leonardo proprio su Leopardi e l'Oriente attenzione qui il problema innanzitutto è che Leopardi è cristiano ed è cristiano in tutti i sensi possiamo immaginare oppure in un certo senso e Gaetano ha precisato molto bene direi una cosa straordinaria anche dal punto di vista filologico indiscutibilmente allora quando è ragazzo e scrive quando ha 14 anni 13 anni e scrive siamo nel 1810 11 12 scrive su Aristotele scrive sul cristianesimo scrive e lui è completamente e poi studi che culminano nel saggio sopra gli errori popolari degli antichi lui è profondamente un cristiano gesuita cioè è un gesuita tomista lo vedete? la ribellione di Leopardi quando abbandona no il cristianesimo apparentemente il cristianesimo e anzi polemizza contro il cristianesimo se voi guardate è una polemica nei confronti del tomismo è una confronti dell'interpretazione aristotelica del cristianesimo e è quindi una tendenza molto precisa prendiamo prendiamo quando inizia questa fase ecco che inizia la Leopardi non se ne accorge a mio avviso non se ne accorge che il rapporto con ecco che si predispone a pensare il Cristo ossia la sofferenza la fragilità io ho parlato proprio con Gaetano qui all'istituto abbiamo fatto quel bel dialogo assieme sul sacro e io dicevo il sacro è la fragilità per Leopardi ciò che è sacro è il fragile quello che si mette e che non tina la testa di fronte alla fragilità ma l'assume come una croce certamente l'assume come una croce questo è un simbolo cristiano che attenzione non è sempre consapevole ha momenti di consapevolezza altri momenti meno e vada a vada si va avanti poi esplode letteralmente esplode nella ginestra possiamo dire che c'è già abbastanza anche talvolta anche prima per esempio un fatto molto curioso si parla di materialismo di Leopardi materialismo certamente è un materialismo ma che curioso materialismo ma che curioso materialismo è questo è un materialismo che non nega affatto non polemizza affatto con la presenza o l'assenza di Dio se voi guardate tutti quanti gli ideologhi da Dolbach a Diderot eccetera i quali polemizzano contro la tradizione cristiana per esaltare il materialismo esaltano il materialismo ma con una durissima polemica nei confronti dell'esistenza di Dio Voltaire che è un teista guardate io l'ho studiato abbastanza bene anche lì ho scritto sopra insomma il suo teismo è ridicolo è un teismo che dice è più conveniente che sia Dio piuttosto che non ci sia perché il popolo sia buono dai che religiosità è questa in Leopardi anche quando vuole dimostrare prendiamo la pagina della souffrance che è vicinissima a quello che tu hai detto dove ci sono tutte quante le piante che sono guardate con estrema compassione con dolore con partecipazione proprio per la loro fragilità per il fatto che vengono sconvolte da questa insensatezza del male del dolore e che però accettano perché sono belle perché sono straordinarie perché accettano la loro condizione di fragilità perché sono non revitenti no? chinano il capo come dicevi tu questo questo tipo di materiale di nuovo è un fatto abbastanza curioso unico direi no? non è in polemica con Dio lui non crede in Dio ma questo non vuol dire nulla cioè nel senso che resta però sempre sul limite dell'interrogazione ontologica fondamentale e poi volevo fare un'altra questa è un paio di osservazioni che volevo fare sulla tua straordinaria relazione e poi devo dire la tua relazione di oggi ha fatto piazza pulita di una tendenza interpretativa che ha dominato a lungo sulla scena del leopardismo e devo dire è stata portata avanti soprattutto da quello che io considero il mio maestro e cioè Cesare Galimberti io per la verità non sono mai stato tanto convinto di questo ma Cesare Galimberti lo era molto e cioè dell'ognosticismo di Leopardi il discorso che tu fai oggi è dimostrazione assoluta dell'assoluto errore diciamo di questa interpretazione Leopardi non è è il contrario è l'opposto di un ognostico perché Leopardi esalta e continua a pensare che l'unica esistenza possibile sia la terra sia la carne sia il corpo la corporeità della vita è fondamentale per lui è il rovescio di ciò che pensavano gli gnostici e dell'impostazione gnostica e credo che tu hai aperto magari diamo anche la parola certo io lo sforcherai per ore no 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 io mi fermai ragione con la carità scusate cioè hai fatto bene tanto poi rientrivedi dopo sì sì benissimo se vuoi dire qualche cosa faccio due cose molto sintetiche punto primo per tornare alla questione dell'ambiguità ambiguità dell'oscillazione dell'ambiguità perché la realtà è un'ambigua Leopardiani ma anche la nozione di natura cioè in fine conti la ginestra non c'è solo la natura matrigna perché la ginestra è natura e quindi in qualche modo è una natura che si sdoppia come dicevi tu in un miracolo della fragilità contenta di un'epifania di senso che è il miracolo della poesia quindi anche da questo punto di vista il disco e sarebbe antignostico l'esito anche perché è la benedizione di tutto ciò che esiste e quindi appunto l'uccello il fiore ma con una dominanza io sono totalmente d'accordo cristologica secondo io volevo segnalare non lo leggo perché il tempo è poco non voglio togliere tempo al dibattito un pensiero di Leopardi per dire quanto rimanga cristiano ed è il pensiero cioè intendo dire uno dei pensieri di postumi che lui raccoglie per la pubblicazione che quindi sono il suo bilancio filosofico che è quello numero 68 sulla noia il più sublime dei sentimenti umani in cui insiste sul fatto che l'uomo non è soddisfatto da alcuna cosa terrena che il suo desiderio è comunque un desiderio ma anche qui è ambiguo perché c'è una volontà di possesso e di amor sui iperbolica ma al tempo stesso è la dimensione metafisica di quell'uomo materiale di quella creatura materiale che si chiama uomo però lei dice esplicitamente che non è perfino apologetici no ma chiaro ma perché cioè appunto è l'antiapologia a Leopardi ma ciò non toglie no? ciò non toglie che la struttura concettuale rimanga quella il problema è di struttura concettuale e dico un'ultima cosa sull'agnosica interessantissimo scusami ma so che sono ma allora per cercare di essere oscillanti anche in questo sono perfettamente d'accordo con te non possiamo definire le due parti un gnostico cioè anche no l'abbozzo dell'inno da rimane cioè rimane una una meravigliosa indicazione che però è in qualche modo un'indicazione ateistica cioè un dio così è meglio che non esista e comunque è un canto che lui non ha mai pubblicato che non ha pubblicato e non percato vabbè comunque al di là di questo però cosa può essere interessante io qui ho citato Artaud qui c'è stato un abili io ce l'ho con questa mia allieva bravissima che non l'ha pubblicata la statesi di dottorato in cui si segue l'ognosticismo di Artaud perché è interessante? perché io vedo qualcosa di analogo con gliopardi cioè prima una possibilità di svuotamento no nichilistico di denuncia della creazione sostanzialmente come qualcosa di mal fatto mal riuscito però al tempo stesso lo svuotamento della teologia porta in Artaud a partire da un meccanismo gnostico alla bestemmia nei confronti del dio trascendente e alla fra virgolette divinizazione di sé prima dell'uomo Gesù e poi di sé come sofferenza una frase meravigliosa di Artaud vale più il suono dei miei passi che tutta l'eternità una cosa bellissima dal punto di vista del rovesciamento gnostico cioè basta un'indicazione di questo tipo vale più il suono dei miei passi che tutta l'eternità allora io vedo un movimento di questo genere in gliopardi che però quindi come dire attraverso una oscillazione gnostica che gli serve per benedire ogni aspetto della creazione che veramente gesuitico potrebbe dire come come imprinting no? e quindi in dimensione di nostra mi fermo qua allora chi è che vuole intervenire? anche da remoto se qualcuno vuole intervenire può chiedere la parola non so Fabiana se può dire qualche cosa prego Fabiana tu sei una maestra della ginestra io un dilettante mi no 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 invece concordo però volevo dire qualcosa per i ragazzi per dare un'altra qualche altro piccolo elemento allora no sono contenta perché anche la mia interpretazione della ginestra non va nella linea limonista ma è appunto aperta a questa configurazione cioè sicuramente è la ginestra una metafora cristiana questo mi sono sempre stata convinta anche perché Leopardi ha una radice cristiana fortissima l'abbiamo detto se navigate nelle sue carte vedete che non è messo in discussione è il problema di Leopardi e Cristo oserei dire con tutte le differenze possibili è lo stesso problema che ha tormentato Gostoievski in qualche modo cioè è una figura che è lì con cui lui fa i conti fino alla fine quindi io credo che effettivamente la ginestra in sé abbia delle diverse componenti una può essere questa metafora cristologica senza dimenticare come ha detto ora tu adesso anche il suo ruolo di natura perché c'è è un fiore quindi sarei più cauta a identificarlo col poeta perché Leopardi la guarda per tutto quello che lui non è stato cioè soprattutto la renitenza la ginestra è renitente lui non è mai stato renitente quindi la guarda forse come altro da sé come qualcosa a cui tendere quindi insomma questo mentre quello su cui sarei un po' più cauta leggermente cauta è questa questo rapporto con Bartoli che è un autore leopardiano per eccellenza lo è soprattutto per la lui ne parla moltissimo tutta la parte linguistica dello Zibaldoni quindi è un punto diciamo di riferimento e probabilmente lo ha incamerato a tal punto ha preso del materiale a tal punto da poterlo usare poi nella composizione della poesia però andrebbe un po' tutto meglio verificato perché per i tempi in cui è scritta e le modalità in cui è scritta questa poesia quindi torno su un piano un po' più diciamo materiale filologico quando Leopardi scrive questa poesia quindi diciamo è un completamento di quello che abbiamo detto fino a qui non ha le opere prima cosa perché siamo diciamo no no non è che non ha il problema delle opere la scrive in una situazione di malessere fisico perché no lo dico soprattutto per i ragazzi che non hanno questi elementi a volte fisici cioè se voi vedete l'autografo della Ginestra è un autografo del Tardo del 1836 è stato scritto composto per meglio dire a quella che oggi si chiama Villa delle Ginestre che allora era Villa Ferrigni dove Leopardi passava le sue estati insieme a Antonio Ranieri e quindi c'è un discorso di natura cioè c'è il contatto con la natura il Vesuvio pieno di Ginestre c'è il contatto con Pompei in cui abbiamo le testimonianze di Ranieri e degli altri amici di queste passeggiate in carrozza a Pompei quindi ci sono dei fatti diciamo vitali ecco biografici vitali e c'è il problema però della sua salute in quel momento perché voi sapete che l'autografo della Ginestra non è autografo cioè è stato dettato ad Antonio Ranieri quindi lui detta questa poesia e ci fa delle piccolissime correzioni via un momento in cui lui non riesce a dei problemi di occhi per lo più questo era un problema ricorrente per cui per cui l'autografo della Ginestra è l'autografo di Ranieri in realtà quindi è dettata per lo più con delle con degli con delle correzioni e delle aggiunte di mano di Leopardi quindi questo semplicemente per completare il quadro dell'officina di un poeta che quindi ha delle fonti e anche poi c'è il momento della stesura della scrittura e tra l'altro va detto da questo punto di vista che rispetto ai canti in cui nelle carte Leopardi come dicevamo l'altro giorno mi ripeto sono 11.000 pagine rispetto ai canti ci sono tanti materiali a partire dalle annotazioni ai canti a materiali minori diciamo di piccoli fogli in cui si vede il lavoro sulle fonti sulle fonti per la ricerca dei termini delle parole delle espressioni ovviamente per la ginestra non abbiamo niente il che non significa però lo volevo dare come elemento per i ragazzi quindi insomma questo è una lettura io penso di cui lui si è imbevuto un po' prima al contosto dire e di cui sicuramente ha portato le parti simboliche e contenutistiche e non so però quanto le costruzioni proprio capito che voglio dire c'è proprio la cosa grazie no no ti ringrazio si può essere anche un entusiasmo come dire della constatazione quello che mi fa spingere a ipotizzare un Leopardi che aveva ben presente le opere morali però può essere ma insomma evidentemente è una lettura di cui lui si è imbevuto profondamente questo mi permette però di recuperare una questione che sollevava Antonio Antonio Alberto prima Curtam perché così tardi cioè riconoscere Bartoli allora noi abbiamo per me questo è un problema metodologico mi permetto anche ai giovani e ai ragazzi di sottolineare questa indicazione ma perché io che sono un dilettante leopardiano mi accorgo perché frequento testi anomali ma questo non è un testo anomalo questo di Bartoli perché se Leopardi dice questo è il Dante della prosa italiana cioè qualsiasi leopardista se lo dovrebbe leggere a tappeto a tappeto cioè un'indicazione vitale a livello a livello interpretativo anche perché se voi lo aprite Bartoli vi rendete conto della miniera di materiali di suggestioni simboliche anche per come sono costruite cioè proprio sono opere morali perché sono sempre un pochino come operette morali sono sempre dialoghi in qualche modo immaginari grandi personaggi storici chiamati in causa per cui troviamo il plotino e il porfile di turno una conversazione con Seneca o appunto con Plinio quindi ripeto io non ho il dominio dell'opera leopardiana per un leopardista leggersi a tappeto Bartoli potrebbe essere davvero un'occasione straordinaria di scoperte ulteriori magari ancora più significative seconda questione quindi c'è un tabù ideologico perché è così tale perché c'è un tabù ideologico perché il materialismo leopardiano è stata una evidenza oggettiva del suo pensiero ma anche una maledizione dal punto di vista interpretativo perché diventa una forma di censura e di liberazione dal compito per me assolutamente doveroso di documentazione sulle letture leopardiane io faccio un esempio c'è quella ora non mi ricordo l'anno mi pare che sia del 23 21-23 quella intervento di Leopardi sulla cronica di Eusebio di Cesarea dove ricordate c'è uno stranissimo esempio che Leopardi fa rubo un minuto cioè dice è una raccolta di Mai cioè polemizza contro Mai voi sapete l'importanza di Mai e dice che l'edizione dei frammenti vengono pubblicati nella cronica la traduzione latina di Mai della traduzione dall'armeno di un gesuito di un religioso e in più Mai raccoglie vari frammenti Leopardi dice i frammenti di Mai ricordano la tesi di Democrito ed Epicuro di un mondo che viene agitato praticamente casualmente con degli elementi che a casaccio poi vengono buttati e che alla fine dovrebbero restituire una composizione sensata così come se bastasse sintetizzo un gioco di dati per avere le storie di Livio allora questo esempio è identico nella ricreazione del Savio di Bartoli cioè ed è nel testo lì di Leopardi ripeto sulla cronica di Eusebio di Cesarea contro Mai in palestia del 23 il 21 è pubblicato nel 23 è ancora un Leopardi antimaterialista e anti-atomista e anti-casualista che è molto interessante e allora lì c'è ancora una ricezione in qualche modo passiva allora questo per darvi un esempio che se uno si legge e Bartoli ci sono tanti elementi che possono tornare e poi chiudo io su allora su Cristo questa è una cosa che mi mi induce a pensare in fondo io trovo poco su Cristo di Leopardi cioè come a mio parere al di là delle cose giovanili ovviamente e al di là della ginestra è come se rimanesse forse per la sua fragilità veramente un luogo del sacro ora al di là di alcune lettere di alcune allora questo è molto interessante cioè questo silenzio quasi degli apologisti cristiani che non nominavano mai Cristo cioè perché così poco e perché questa esplosione come diceva Alberto alla fine perché evidentemente lì c'è un luogo della rivelazione del sacro nel senso forte filosofico eh cioè non nel senso banale del termine cioè lì c'è il punto il punto proprio perché se ne parla così poco e chiudo sul poeta ginestra l'ho detto malissimo me ne rendo conto della tua perplessità io non dico di essere convinto perché la convinzione è di ratteggiamento degli stupidi però penso che se ci si lavora si riesce a spiegare insomma in fondo la ginestra è un po' come l'uccello sia una componente della natura ma è anche una metafora del canto poetico e della fioritura della bellezza e della dignità dell'umano nella sua fragilità e nella sua propria dimensione come ho detto io che notica e quindi il poeta è colui che si fa carico razionalmente del disastro ma al tempo stesso che è testimone del senso nel senso ambiguo del termine che è un senso materiale ed è un senso dell'immaginazione della poesia dell'etica cioè dell'umano perché poi l'uomo vive di questa illusione del senso allora ci sono altre domande allora do la parola a me stesso e ti ho qualche osservazione qualche osservazione ho già detto dell'importanza a mio avviso e l'ha ribadito molto bene Alberto Flynn dell'importanza di questo incontro che secondo me Massimiliano inquadrati per favore che non ti si vede ecco ora mi si vede? no non ti si vede no è lì eccoci adesso ti si vede perfetto dunque stavo dicendo dell'importanza di questo incontro che ci permette di progredire nella comprensione di un testo tanto studiato tanto amato che ritengo in alcuni punti enigmatico e l'universo simbolico cristiano a mio avviso permette di far dei progressi notevoli nella comprensione di questo testo sono particolarmente d'accordo a usare la categoria di post cristianesimo questo è il primo punto perché è evidente da tantissimi punti di vista che Leopardi non è cristiano nel senso di non aderire ai contenuti dogmatici di fede del cristianesimo è altrettanto evidente che vive all'interno di una cultura permeata direi totalmente dal cristianesimo pur aderendo in modo esplicito lo dice nella ginestra alla filosofia del secolo precedente cioè la filosofia illuministica anche qui giustamente tu hai detto c'è un illuminismo ristretto ma appunto ci sono tanti illuminismi al plurale dobbiamo parlare di illuminismo e Leopardi certamente è vicino all'illuminismo più radicale dal quale peraltro è lontano per gli aspetti polemici che non condivide la mia lettura è diversa dalla vostra da questo punto di vista io ritengo che lui la ritiene una come dire una questione sostanzialmente liquidata quella della teodicea e di Dio cioè è evidente che le cose questo è il mio punto di vista ma la ginestra parla di quello dell'impossibilità della teodicea però sì sì cioè la liquida in versi sì sì siamo d'accordo no siamo d'accordo non siamo d'accordo questo significa che il verso giovaneo che è posto in esergo ci dice una cosa fondamentale che siamo in una situazione in cui in una situazione speculare rispetto al cristianesimo qui ti mira e qui ti specchia questo specchia non è semplicemente a mio avviso un verbo che indica rispecchia di qua e ti ritroverai no lo specchio ci restituisce un'immagine invertita sì no tu che sei credente guarda quello che succede con il monte vesuvio che stermina con suprema indifferenza uomini e città e guarda se puoi come dire mantenere le due convinzioni davanti a questo però io ti faccio vedere un paesaggio invertito ma l'inversione significa che io uso le categorie che inverto cioè non sto al di fuori di quell'universo simbolico semplicemente da un significato diverso a quegli stessi simboli e sono assolutamente d'accordo su questa insistenza sulla vicinanza anzi lettura della ginestra come Cristo come figura di Cristo Cristica del sacrificio innanzitutto notiamo una cosa che stiamo parlando di piante è singolare che Leopardi quando parla della sofferenza il brano famoso del giardino parli delle piante non degli animali forse la sofferenza animale potrebbe essere qualcosa di molto più vicino e simpatetico a noi invece parla delle piante perché c'è anche qualche riferimento agli animali c'è la sofferenza animale però c'hai ragione Zibaldone è un luogo topico è un luogo topico è la ginestra è curioso ti dirò un'altra cosa che c'è un passaggio del genere anche Schopenhauer anche lui parla solo delle piante è chiaro che le Pagli non potevano ma la pianta perché è l'essere vivente esposto per eccellenza vive di luce e di aria e non si può muovere cioè è radicata a terra cioè non può trascendere la situazione che gli è data trascendere nel senso di mutarla la situazione che gli è data l'animale scappa davanti al pericolo la pianta non può che subire no però aggiungo che ci sono le formiche nella ginestra non è poco le formiche vengono schiacciate ma c'è una sofferenza in qualche modo una vanità per cui sono d'accordo c'è una vanità però ci sta una centralità sulla pianta sulla non c'è dubbio no anzi comunque questo è soltanto un inciso per dire questo potrebbe essere ulteriormente rafforzato se probabilmente l'hai scritto e l'hai notato se si lavora su quei versi sull'odore che console il deserto perché qui c'è proprio una citazione potrebbe esserci un ricordo della seconda lettera ai Corinzi del profondo di Cristo questo già la Gentili l'aveva indicato appunto e come la lettera agli Efessini in sacrificio e sovrave odore eccetera eccetera quindi questo aspetto può sicuramente va a rafforzare quanto no qui ci sono dei fuochi di artificio non mi è insomma no 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 i testi sono tantissimi sì sì dato che non l'hai citato non lo citavo no vabbè se devo citarvi tutto mi scaccia la che effettivamente questo aspetto si può rafforzare appunto al fiore di Es è una cosa fortissima cioè è un testo chiave di tutta la tradizione cristiana sia patristica che eretica pure pure ignostica cioè Cristo è il fiore il fiore che fruttifica è il fiore nel deserto no è il deserto che fiorisce quindi cioè è colui che fa fiorire il deserto quindi sono perfettamente d'accordo no ci sono questi riferimenti e ma tu dici una cosa fondamentale se io ho un fiore per questo sono d'accordo che poi c'è centrale la questione della pianta e del fiore se io ho un fiore un fiore che profuma un fiore che è contento che è allegra che consola e che è prossimo alle vittime alle sofferenze ma può non essere cristologico certamente cioè è proprio assolutamente evidente ed è clamoroso che non si sia ma cioè non riesco a capire sinceramente no scusami non ti errore quindi sono d'accordo no ti ringrazio queste osservazioni per dire che condivido in buona parte la tua lettura ma a me mi interessa la minima parte della buona cioè quello che non condividi beh allora a me io penso che parlare di religiosità o di sagro sia un po' pericoloso da questo punto di vista cioè il fatto che Leopardi si ponga costantemente il problema del senso ultimo dell'esistenza anche nella ginestra e questo lo porti a dire la natura è madrigna mentre avrebbe potuto dire come dire con distacco filosofico la natura è del tutto indifferente a noi e noi dobbiamo in qualche modo salvaguardarci da questo cioè quello che si diceva ieri che oggi è stato accennato mettere in opera comportamenti non mimetici con quelli della natura se la natura è indifferente non si cura dei suoi figli diciamo così noi dobbiamo fare esattamente l'opposto prenderci cura gli uni con gli altri la mancanza di senso che Leopardi denuncia tuttavia a mio avviso non apre una dimensione del sacro o a una qualche sua religiosità semplicemente è una denuncia che viene fatta con i termini culturali che erano a sua disposizione e che riteneva più doni in questo in questo senso l'universo simbolico cristiano che voleva rovesciare invertire funziona molto bene perché che cosa qual è la grande risorsa del cristianesimo la condanna del mondo come hai detto tu giustamente la condanna del male che ci fu dato in sorte ma senza alcun tipo di riscatto cioè la consolazione ce la dobbiamo dare da noi allora non ci può essere un consolatore che ci verrà dato no ma è chiaro per esempio nella ginestra quando dicono che si illudono scusate faccio una parola internazione quindi è del tutto evidente no che non siamo all'interno di una prospettiva religiosa però allora a mio parere sulla questione del religioso di Leopardi dobbiamo continuare a ragionare cioè non penso che sia soltanto cioè sicuramente l'ho anche detto no c'è questo aspetto come dire di linguaggio di categorie di eredità culturale di condivisione di codici che Leopardi eredità e che continua a condizionarlo e che sceglie perché è chiaro che sono tutti riferimenti riecheggiamenti ci sono però due ragioni punto primo e questo va nella teoria del rispecchiamento del rovesciamento quanto più io continuo ad utilizzarli tanto più è forte la novità con la quale io li rinterpreto quindi come dire una dimensione di potenziamento no tramite rovesciamento rispecchiamento ma c'è una seconda questione che per me non dobbiamo dimenticare cioè che in fin dei conti il poeta si muove sul piano noi potremmo dire del simbolo della metafora dell'immaginazione dell'illusione il piano dell'illusione è il piano del religioso cioè il piano in qualche modo il piano del sacro è il piano la dimensione di un'estasi che è quella di quando io guardo il fiero di quando guardo gli uccelli da cui al tempo stesso nasce sia la poesia che la religione allora questa dimensione per me rimane consapevolemente Leopardi e allora io la posso mantenere unicamente se in qualche modo ricordate le ingenuità di lui mi piace il mito antico che Leopardi giovane Leopardi è il discorso piuttosto che la prospettiva della 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 legge cristiana così penitenziale eccetera eccetera ciò nonostante il cristianesimo rimane a mio avviso dal punto di vista della utilizzazione del ricorso necessario alla dimensione chiamiamola del mito come dimensione indicativa di ciò che sfugge alla ragione lo dice questo che è la migliore esatto lo dice chiaramente Luigi Baldone lui parla del cristianesimo come l'estremo possibilità di salvare il divento l'illusione attraverso un periodo sì tu dici siamo nel 21-22 però allora è cosa diversa dell'epoca della ginestra sono d'accordo con te certamente però è già su quella strada però l'ha capito il problema l'ha capito già anche perché tutte le modalità anche di apologia del cristianesimo in quei due anni cioè dal 20 al 21 anche al 22 sono comunque tentativi come dire di salvare caprecavoli cioè per intenderci cioè dove è svuotata la verità esatto la compatibilità cioè il mio sistema è quello filosofamente vero cosa posso mantenere allora ripeto quindi nella tua indicazione io resisto cioè per me lo spazio del religioso è lo spazio del sacro è lo spazio del poetico e quindi è in fondo lo spazio del metafisico che dice Alberto per me cioè in questo senso un grande metafisico perché non è appunto il materialista ristretto che dice tutto e nulla non va perché noi continuiamo a pensare l'amore insomma quando Cacciari parla di platonismo leopardiano è questo il problema e il platonismo è religioso ed è la questione del sacro sostanzialmente che poi oscilla appunto tra l'erotico e il sacrale che però assume nella prospettiva cristologica una radicalità e anche una capacità di incrociare l'intelligenza della vanità con quella dimensione sociale di solidarietà e di amore per l'umanità storta in qualche modo che solo il cristianesimo gli consente di fare quindi per questo è un groviglio particolarmente interessante un oggetto di oscillazione cioè lo ripeto l'ambito del religioso è rinunciabile perché se noi mandiamo a mare il religioso mandiamo a mare il poetico e mandiamo a mare l'umano cioè mandiamo a mare l'umano perché l'umano è come dire la consapevolezza di aggiungere che questa religiosità questa ecco qui ha ragione perfettamente Massimiliano a mio avviso questa religiosità forse dovremmo chiamarla trovare un altro nome come cercava di fare Leopardi che cercava nomi in qualche modo in ultra filosofia anche noi forse perché effettivamente ha ragione parlando di religiosità c'è questa dimensione che io ho avverto profondissima che è questa però c'è anche il rischio di cadere come ci sono tanti che hanno fatto anche troppo forse di pensare che Leopardi fosse un cristiano e credente e non è vero allora io mi permetto di candidarmi perché io sono un uomo immodesto è credente secondo te no mi permetto di candidare il mio titolo al trovare il termine Leopardiano che è a teofania sì sì che è un bel tema voglio dire è bello non ne vado orgoglioso io sono molto immodesto perché è la prospettivata che però mantiene al suo interno una marcatura sacrale irriducibile quindi ora scusate ora tirate le battute quando è stato l'anno scorso io ho parlato della necessità di dire di nominare questo piano di ulteriorità che è fortissimo Leopardi allora tu lo puoi chiamare religiosità poetico l'abbiamo chiamato io l'ho chiamato eccedenza c'è qualcosa che eccede l'economia dell'universo quello che in un frammento in un passo dello zibaldone Leopardi chiama l'economia dell'universo che nel settecento era l'economia della natura sostanzialmente cioè questo sistema di produzione conservazione e distruzione degli enti che permette alla natura nel suo complesso di essere e di durare c'è qualcosa di più per Leopardi ma chiamiamolo materialismo dell'eccedenza chiamiamolo no ma non lo puoi dire perché se è un materialismo dell'eccedenza cioè in qualche modo questa è anche filosoficamente la cosa interessante se tu lo chiami materialismo dell'eccedenza lo dovresti chiamare eccedenza del materialismo nel senso che il materialismo dell'eccedenza ricattura l'eccedenza nella materialità non riesce a spiegare appunto l'eccedenza non so se mi spiego non so se mi spiego no non voglio intendere no ma io voglio dire in senso soggettivo oggettivo sì appunto hai ragione e allora ma voglio dire questo religione prendiamolo nel senso etimologico del termine no le varie etimologie lattanzio è il legame cioè è la forza di un legame nei confronti di qualcosa che deve essere trattenuto rispetto alla lava che è la ginestra la ginestra è il religioso cioè se noi neghiamo questa dimensione del religioso del legame che io sento e che il genio poetico e il genio religioso su qualsiasi a 360 gradi sente nei confronti della come dire fragilità assoluta dell'esistere noi non capiamo le varie allora quello è il legame quello che ciò che devo in qualche modo per questo breve tempo che ci rimane conservare o invocare che ci sia qualcosa che questo legame lo mantenga altrimenti perché le pentole sono orrende perché non hanno legame cioè non hanno non si accordano del miracolo dell'eccezione dell'esistere allora qui il religio mi piace come termine al di là delle pesterie che dicevo sulla teofania allora ci sono altre domande osservazioni non necessariamente intelligenti però magari curiosità no assolutamente ho molto apprezzato no so scherzare allora io penso che possiamo chiudere non ci sono osservazioni da remoto possiamo chiudere questa terza giornata del laboratorio nebordiano ringraziamo molto il professor Lettieri per la sua lezione per i moltissimi spunti e anche novità bisogna dirlo che ci ha presentato e che se ho ben capito leggeremo a breve sì sì no se no lui mi toglierà il saluto in un libro che uscirà penso che uscirà in settembre se mantiene la capometra 17 febbraio verrà consegnato benissimo quindi sapete che cosa leggere tra settembre e ottobre dell'anno prossimo allora a domani alle 16 in punto Massimo posso aggiungere una cosa sintetica quanto è bello parlare della ginestra a Napoli io lo aggiungerei sinceramente a senso sì dovremmo fare una puntata a Villa delle Ginestre che dici e però dobbiamo organizzare un pulmino o qualche cosa per andare io ci vado a piedi il giorno prima ma è stato alcune conferenze tenute a Villa delle Ginestre su Leopardi che sono stati incantevoli ricordo quella per esempio di Massimo Cacciari che ha fatto un'azione stravitosa come il solito suo e di fronte a questo dietro c'era questo vulcano questi colori era una cosa oppure Gilberto Ronardi ti lo ricordi quello di Gilberto una bellissima cosa pa poetica c'era un silenzio tra il pubblico quasi che avvertivano qualcosa di impalpabile qualcosa di un posto sacro un posto sacro ecco quindi fare una cosa a Villa delle Ginestre non sarebbe male assolutamente ci penseremo prego certo però vieni qui così non dobbiamo spostare telecamere no grazie stavo veramente profondissima la sua lezione mi ha anche sconvolto perché ho studiato poco Leopardi non avevo mai trovato il nome di Bartoli stavo anche sfogliando adesso l'edizione di Gavazzeni e non compare il suo commento la ginestra solo una cosa dico proprio a livello così puramente dialettico non mi persuade tanto il fatto di identificare ginestra Cristo ginestra poeta mi sembra che ogni tanto la voce del poeta nella ginestra sia quasi più da distacco non so se il riso la pietà prevale è come se forse il regalo più grande che ci abbia fatto Leopardi è quello di dire che la ginestra quindi Cristo deve essere la social catena contro la guerra comune quindi un'estensione di questo ruolo sacro cristologico che va proprio che Leopardi riesce a indirizzare a tutti mentre lui sento come se se ne volesse distaccare quindi no non ti ho capito mi devi scusare allora mi sembra interessante mi sembra che la voce scusa tu no mi sembra che la voce del poeta nella ginestra sia una voce sì di compassione ma al contempo di distacco ok chiarissimo e in questo senso potrebbe andare contro una visione cristologica cioè Cristo è quello che ha sempre il pathos non potrebbe mai distaccarsi guardare dall'alto o ridere o piangere delle questioni umane mentre il poeta può farlo quindi mi stavo chiedendo semplicemente questa lettura Cristo ginestra più che essere la ginestra il poeta sia estensibile poi proprio la social catena ecco allora dunque no la domanda interessante opportuna ovviamente ci si deve lavorare qui siamo a stato di proposta però ritorno al pensiero che ho citato cioè esiste una dimensione apocalittica violentissima di denuncia in Cristo no cioè di condanna del mondo falso di dimensione è stato spesso proposto da alcuni saggi appunto la dimensione protestataria della ginestra di protesta assoluta io pubblicherò un volume dopo quello diopardiano intitolato Gesù eretico cioè l'origine del cristianesimo storico è in un atto di eresia radicale di contestazione radicale di denuncia radicale dell'inautenticità non della vita del religioso tra l'altro quindi esiste nel modello cioè in fine conti se tu prendi le vighe cioè l'opposizione tra luce e tenebra è una chiarissima categoria di origine apocalittica violentissima che il vangelo di Giovanni ovviamente riprende in profondità che viene lanciata contro il mondo quindi esiste anche in questo senso tu puoi dirmi che il poeta è più grande della ginestra in quanto all'interno del poeta esiste sia la ginestra sia il vesuvio sì il poeta è anche vesuvio perché è anche vesuvio sia colui che condanna d'accordo? e ciò nonostante la ginestra è il fiore del deserto è il fiore che ama i luoghi desertificati è il rapporto dialettico con il deserto e benedice in qualche modo con il suo odore con il suo profumo quel mondo che condanna e che ha desertificato quindi tutto sommato non la vedo come una forzatura d'accordo? se ragioniamo su questa dimensione della tierra ginestra però non dimenticando che Cristo ha una dimensione vulcanica per intenderci che spiega perché per Leopardi il cristianismo sia il grande vero responsabile del nichilismo della cultura occidentale no? come dire del rifiuto di una religiosità ingenua per questo diventa ancora più miracolosa quel sagro quel legame religioso di cui parlavamo che non c'è più l'ingenuità no? e quindi per questo è il post cristiano siamo d'accordo su quello che dicevi non so se ti ho risposto con troppe parole bene dopo questo bis che possiamo interpretare come tale ci salutiamo domani alle 16 per la ultima lezione della prima parte del laboratorio del Pardiano del 2023 grazie di nuovo a domani grazie a tutti grazie grazie Gaetano grazie grazie